Buongiorno a tutti. Senza fare ulteriori presentazioni, perché le abbiamo fatte ieri, e quindi invito Daphne Grieco e Luigi Cirillo a sedersi qui. Chi deve proiettare? Non so se lei proietta, però parla prima Cirillo. Cirillo proietta? Parlò Romaglio. Ah, ok, ha ragione. E allora va benissimo così. Dunque, questa volta poi la discussione sarà introdotta da Federica Cengarle. Dunque, Daphne Grieco ci parlerà di questo. Una pasta che ne mangiariano gli pavoni. Indagini preliminari su di una congiura ai danni di Galeazzo Maria Sforza. Prego. Grazie. Buongiorno a tutti. Sì, grazie mille. Un ringraziamento agli organizzatori per questa splendida iniziativa e a voi per essere qui presenti oggi. Appunto, come detto dal professore senatore, mi occuperò di questo argomento che ho trovato molto interessante e divertente anche, con una postilla a margine che sono delle indagini preliminari, in quanto alcune cartelle delle potenze sovrane che avrei voluto consultare per approfondire il discorso sono attualmente in corso di digitalizzazione e non saranno disponibili presso l'archivio di Stato di Milano fino alla prossima estate. Faccio partire il cronometro in modo da non tardare. Dunque, come tutte le cose iniziano spesso con lettere, anche io oggi vi propongo una lettera scritta da Galeazzo Maria Sforza a Francesco Maletta nel maggio del 1474 e che rappresenta un po' il culmine, uno dei momenti cruciali di questa presunta congiura, come poi vedremo. Dunque, ricordandone quanto ne scrivesti altre volte per tue lettere di uno Francesco di Alexandri da Scisa, creato che fu da Domino Antonio da Pesaro, è accaduto nuovamente che uno spagnolo chiamato Francesco da Castignale, venendo da noi ad la improvvisa e facendo prova per due volte di volerne toccare la mano, avendo alla mente dicte tue lettere e dubitando non fosse quello Francesco che tu ne scrivi, avevamo onestamente sopratenuto perfino che abbiamo risposta da ti di questa nostra lettera. Lui dice essere venuto qui per darne certi avvisi per l'util nostro. Dicto Francesco, veni a Roma con lettere del re a Messeranello e con lettere dei Don Zoanne ad uno vescovo a Sentino de Spagna, quale te mandiamo qui a Legate. Lui dice non aver trovato a Roma Messeranello. E in effetti Aniello Arcomune è in questo periodo a Napoli, come abbiamo visto nelle presentazioni della giornata di ieri, per incontrare Federico da Montefeltro. Per la qualcosa, volimo che più subtilmente e diligentemente che porrai, ti informi chiaramente nel stato, grado, fama e condizione del dicto Francesco. E se verisimilmente puoi avere immaginazione nel sospetto per le informazioni che averai, che fosse venuto a qualche male effetto e per perpetrare qualche male, e similmente se li è quello Francesco del quale si fa menzione nelle predicte tue lettere, volimo a Donca che subito e volando ne avvisi minutamente e particolarmente di tutto, per modo che restiamo ben chiari di quanto avevamo dito. Questa lettera sostanzialmente è causata dall'arrivo a corte di un certo Francesco da Castignale, con delle lettere credenziali del re a Daniello Arcamune e di Giovanni d'Aragona a un vescovo piacentino che è Giovanni Campisi, per entrare nell'ordine gerosolimitano. Tuttavia, come presto vedremo, Galeazzo si allarma in quanto il nome e la nazionalità corrisponderebbero, e anche l'atteggiamento, a un altro Francesco menzionato da Maletta in alcune lettere precedenti. Maletta subito si premura di verificare l'identità di questo Francesco de Castignale, che effettivamente è un uomo della guardia del re, però aggiunge comunque una piccola postilla, che non è da sottovalutare a mio avviso perché comunque dimostra lo stato di preoccupazione costante in cui probabilmente Galeazzo viveva, cioè Maletta dice Da esso Palermo, quale conosce tutti questi balestrieri della guardia del re, ho informazione che lo è gran scappatore e braveggiatore, come dicano questi suoi spagnoli propri, è malizioso ed astuto e per essere castigliano più presto e prono a fare qualche tagagneria e ribalderia che virtuosa cosa. Di conseguenza anche qui, nonostante effettivamente Francesco de Castignale non costituisca il pericolo che Galeazzo aveva immaginato, è comunque potenzialmente motivo di preoccupazione e di pericolo sia per la fama pubblica che aveva, sia per il fatto che era castigliano, quindi un pregiudizio anche nei confronti della nazionalità. Andiamo però direttamente al nodo cruciale della questione che è riportato da una lettera di Maletta a Galeazzo Maria dell'8 dicembre del 1473. Maletta, dopo aver parlato con Palermo di Palermo, che era il conestabile dei fanti del re di Napoli, riesce ad entrare in contatto dopo sei giorni di lunghe trattative con un certo Diego de Lison, che era un castigliano uditore di camera, uomo d'arme, attualmente al servizio del re, del quale dice anche che si accontenta molto male, e del quale sappiamo che aveva servito sotto Filippo Maria Visconti e Francesco Sforza. Questo Diego de Lison avrebbe incontrato sulla via da Firenze per Napoli un personaggio non identificato attualmente, chiamato Francesco di Alexandri da Scisa o Sissa. Questa doppia versione del toponimo è data dalla diversa grafia con cui è riportata nelle varie lettere. Egli probabilmente, il cognome de Alexandri, il patronimico de Alexandri, può far pensare forse alla famiglia dei d'Alessandro, sebbene comunque di soldo vengano citati o come de Alexandro oppure come Alexandri. Quindi questo è un po' un mix delle due cose. Mentre il toponimo Scisa lascerebbe pensare a una piccolissima frazione dell'attuale comune di Cademario in Svizzera, ma che al tempo faceva parte del territorio del Ducato milanese. Più probabile, a mio avviso, invece, è una corruzione del nome Sissa, che è una località nel Parmense, governata dai terzi di Sissa, dal quale forse potrebbe provenire. Ma ad ogni modo, Francesco de Alexandri sappiamo che fu creato cavaliere da Domino Antonio de Pesaro, che era il pagatore delle struppe sforzesche nel regno. Quindi, almeno così, riusciamo a collocarlo come un uomo della probabile origine lombarda che aveva comunque combattuto nel regno. Questo Francesco de Alexandri dice a Decio le seguenti parole. Oltre a questo, viene riportata in questa lettera anche l'itinerario di questo Francesco de Alexandri. Infatti, Dicto Francesco era stato dal re d'Inghilterra, dal duca di Bretagna, dal duca di Borgogna, ad Imperatore, ad Venezia e poi dal duca Ercole. Ultimamente veniva il re Ferrando e, parlato a Viria con sua maestà, voleva tornare ad Ferrara e ad Venezia e da Venezia a Milano. Di conseguenza, diciamo, vengono in questo modo un poco nominate tutte quelle che erano le potenze, le grandi potenze, dichiaratamente antifrancesi già dai, diciamo, degli accordi di Sant'Omer del 71, ma anche alcune potenze italiane che appunto erano sull'asse aragonese. Inoltre, viene rievocata anche una questione che proprio in quei giorni era molto a cuore delle varie potenze italiane, che è quella cipriota, perché infatti viene detto che questo Francesco venirà ad vostra sublimità come messo ed uomo della regina scazzata dei Cipri e portaravi lettere credenziali di lei. Di conseguenza, questo fantomatico Francesco d'Alexandri, dopo queste periclinazioni presso potenze antifrancesi, antisforzesche, si sarebbe diretto a Milano fingendosi un messo di Carlotta Lusignano. Di questa lettera però non ha nessun seguito, nonostante questo affresco comunque in qualche modo veri, similianti a quelli che erano i giochi di alleanza del tempo, antecedenti alla strage di Famagosta, quindi antecedenti a quelli che saranno un po' i movimenti che faranno cambiare parte di queste alleanze, Galeazzo non risponde. Un po' perché Maletta è cauto nel presentare questo affresco, che comunque presuppone, se fosse stato reale, un certo investimento di energie e di tempo. Dall'altro lato, proprio negli stessi giorni in cui la lettera è ricevuta da Galeazzo, arriva per la prima volta la notizia della strage di Famagosta e tutto il carteggio di Maletta e Galeazzo in questo periodo è incentrato sulla bassina del Panaro e in particolar modo che peggiora tutto il rapporto perché arrivano a Galeazzo due lettere di Ferrante con delle informazioni diverse, cioè Ferrante in una lettera prende una posizione molto più favorevole e conciliante nei confronti di Galeazzo, nell'altra invece molto più distante e addirittura chiede a Maletta di leggerle a corte. Quindi viene meno anche la fiducia del re di Napoli e queste sono, penso, delle situazioni molto più imminenti e molto più forti per questo momento che fanno sì che forse la lettera passi un po' inosservata. Tuttavia Galeazzo legge la lettera e Galeazzo ricorda la lettera perché nell'8 dicembre 1473 quando appunto Francesco viene a corte sostanzialmente questo Francesco de'Aleksandri scusatemi quando Francesco da Castignale arriva a corte compie una serie di gesti e viene fatto subito mettere in custodia Questi avvisi si trovano già nella lettera di Maletta del 73 in cui invitava Galeazzo alla cautela infatti appunto come dicevamo questo Francesco verrà come messo della regina scazzata di cifro e portare a vi lettere credenziali di lei che vostra signoria non le accetti né tocchi la mano di lui vostra eccellenza deve già fare prendere e farlo confessare ciò che il va tramando quindi non si deve far toccare e lo deve mettere subito in prigione per farlo confessare ed effettivamente Galeazzo fa proprio questo perché quando Francesco da Castignale si presenta innanzitutto si presenta alla improvvisa senza essere annunciato quindi venendo da noi alla improvvisa e facendo prova per due volte di volerne toccare la mano quindi prova due volte a toccare la mano di Galeazzo toccare la mano è anche un gesto che è presente nelle cerimonie di incontro con gli ambasciatori però evidentemente in questo caso sia perché il personaggio non era un personaggio né annunciato né noto e ricordando la lettera di Maletta Galeazzo si preoccupa infatti avendo alla mente ditte le tue lettere e dubitando non fosse quello Francesco che tu ne scrivi abbiamo onestamente sopratenuto perfino che abbiamo risposta da ti di questa nostra lettera quindi esegue pedisteguamente le istruzioni di Maletta questa attenzione da parte di Galeazzo a questi dettagli non è casuale perché come sappiamo la sua vita è incorniciata un poco da due avvenimenti due attentati che in un caso lui riuscirà a scampare cioè quello presso l'abbazia di Novalesa ad otto giorni dalla morte del padre Francesco e il secondo che invece lo condurrà alla morte è una congiura ben più nota di questa presunta ma nel 73 in realtà succedono altre cose che minano un po' la sicurezza di Galeazzo nel 73 infatti Galeazzo scrive a Maletta che Carlo da Faenza manda continuamente messi in Borgogna in Savoia tramando contro di lui e anche da recetto a Joan Galeazzo da Campofregoso che era un fuoriuscito genovese e pochi giorni dopo in tutto ciò Carlo di Faenza Carlo Manfredi da Faenza nell'estate dello stesso anno soggernerà a Napoli per tre settimane ed è al soldo di Ferrante pochi giorni dopo Galeazzo Maria scrive al Marchesi di Monferrato cui è il mottavo paleologo per chiedergli di acciuffare di consegnargli uno balestrero a cavallo venuto dai ranghi di Cola da Monteforte conte di Campobasso che era in Italia per reclutare dei balestrieri a cavallo per ordine del Duca di Borgogna torna anche qui questa figura lo quale quando noi eravamo in campo in Romagna cercò per molte vie di ammazzarne ma essendone noi avvisati per buona via gli facevamo venire fallito il pensiero quindi questa notizia ci dimostra due cose una è effettivamente che situazioni anche in un certo senso particolari come questa fossero in realtà una cosa non inverosimile e una cosa ancora più importante è che Galeazzo fosse riuscito in questa occasione ad intercettare questo movimento grazie alla sua rete di informatori quindi ancora una volta insomma viene confermata quella che era un'organizzazione capillare dell'informazione di conseguenza non resta che porsi la domanda più importante nei confronti di tutta questa architettura la congiura è reale il problema è questo perché dopo che questo Diego Delison racconta tutto quello che abbiamo appena detto a Maletta Maletta e Diego si mettono d'accordo affinché Diego riaccompagni nel viaggio di ritorno di Francesco di Alexandri quest'ultimo fino a Ferrara per poi puntare su Milano con la scusa di trovare alloggiamento per i cavalli di Francesco di Alexandri che intanto si sarebbe recato a Venezia e con questa scusa in realtà avvertire il Duca di Milano ma questa è una cosa che non avviene assolutamente di conseguenza noi perdiamo completamente il punto proprio per questa ragione bisogna concentrarsi a mio avviso sul personaggio di Diego Delison di cui Maletta e Palermo dicono che salverà la vita e lo Stato addirittura quando Maletta scrive di nuovo a Palermo sente Palermo per confermare l'identità di Francesco da Cassignale ha questa informazione mi risponde Palermo non essere quello cioè Francesco da Sissa però che ditto Francesco da Sissa sta in presenza in Ferrara ma il problema è chi è l'informatore di Palermo se è sempre lo stesso Diego che non si è mai mosso da Napoli perché non è andato a Milano ovviamente se fosse lo stesso Diego sarebbe anche da mettere in dubbio l'identità di Francesco di Alexandri cioè se esiste o meno io penso personalmente che esista ma a questo punto bisogna porsi la domanda se questo Francesco di Alexandri è verosimilmente stato in tutte le località menzionate cosa che richiedeva un impiego di tempo e di soldi molto molto ingente quindi cosa che risulta molto meno probabile magari è stato soltanto in alcune delle località menzionate forse quelle della penisola italiana perché fa comunque magari la Borgogna quindi l'ulteriore domanda è se Diego può aver inventato tutto per denaro il problema è che Diego appunto nonostante evochi la somma di 10.000 al Ducati che lui e Francesco di Alexandri avrebbero dovuto guadagnare dall'impresa Diego non si rega mai a Milano per scuotere tale somma e Maletta non ha un budget tale da insomma dargli qualcosa lo stesso Maletta dice che non gli dà niente ma che gli promette Maria et Montes a questo punto si possono fare alcune ipotesi se la congiura può essere effettiva magari con il coinvolgimento solo di alcune delle potenze elencate quindi penso a Ferrara a Venezia magari alla Borgogna e Napoli altrimenti potrebbe trattarsi anche di un invenzio per testare le reazioni di Galeazzo Maria a una notizia del genere oppure per indurlo in un clima di timore per destabilizzarlo un'altra ipotesi che però diciamo è molto meno legata a diciamo ad argomenti più stringenti è un test invece per valutare la fedeltà di Palermo come informatore perché appunto Palermo in realtà dopo pochi mesi da questi fatti per tutta la cartella presente la 225 la cartella successiva non compare più come informatore di Maletta quindi potrebbe darsi anche che si tratti di una cosa del genere però onestamente le reputo quest'ultima ipotesi la più inverosimile quello che possiamo dire con certezza invece o quasi è l'origine di questo presunto complotto che è a mio avviso da collocare in ambiente napoletano e militare in particolar modo Francesco di Alexandri se realmente esiste e se veramente ha fatto le sue pregrinazioni dopo le sue presunte pregrinazioni ritorna a Napoli ed è da qui che riparte per informare alcune delle potenze già consultate quindi sembra essere Napoli il punto propulsore da cui parte per poi riportare le notizie e procedere dall'altro lato invece se la congiura non è reale se questo complotto è soltanto un'invenzione Diego può essere un abile dissimulatore e quindi magari con lo scopo di intimorire o di testare Galeazzo Maria però in questo caso se Diego è un dissimulatore bisogna comunque tenere presente la sua presenza fisica a Napoli in quel periodo e quindi come informatore di Palermo l'origine invece in ambiente militare va molto bene sia se si pensa alla figura di Francesco di Alexandri che appunto abbiamo già detto come fosse stato fatto cavaliere da Antonio da Pesaro che oltre a essere il pagatore delle truppe sforzesche nel regno aveva anche avuto un turbolento passato da ribelle infatti si comportò sinistramente manco che bene nei confronti della famiglia sforzesca e venne reintegrato dei beni soltanto da Francesco sforza scompare dalla documentazione nel 62 quindi non sappiamo che cosa sia accaduto però mi sembra comunque doveroso citare questa cosa inoltre anche Delison proviene dallo stesso ambiente militare come abbiamo detto e quindi se da un lato lo lega anche a Palermo è anche forse per questo che di Alexandri se la congiura dovesse essere effettivamente reale prevedere il suo coinvolgimento si sarebbe potuto confidare con lui perché il problema è perché con un complotto del genere perché confidarlo ad un'altra persona in una maniera così aperta quindi l'unica spiegazione che mi sono più o meno data è che magari era perché erano dello stesso ambiente combattivano sotto lo stesso signore erano coinvolti nelle stesse cose c'era questa prossimità ma ad ogni modo la questione è da diciamo dovrà restare aperta ancora per un poco per ulteriori approfondimenti soprattutto documentari e io non posso che chiudere con le parole utilizzate dallo stesso Francesco Maletta e cioè io dono questa cosa come a me l'è venduta se l'avesse taciuta mi pare riavere commiso errore grande donde che dicendola mi pare fare mio debito ancora che la fosse una favola ma lo esito mostrerà il tutto grazie per l'attenzione grazie a Daphne Grieco abbiamo sentito intrecciarsi nella sua esposizione due indagini poliziesche quella di Maletta e di Galeazzo Maria sulla presunta congiura e quella di Daphne Grieco sul motivo per cui si queste cose vengono dette sulla effettiva realtà della congiura naturalmente le congiure vere sono quelle che riescono quelle che non riescono sono sempre difficili da identificare soprattutto in una documentazione di questo genere che per sua natura non può essere completa nel senso che probabilmente notizie di questa persona sono sparse poi nelle corrispondenze appunto di tutti i luoghi che queste persone avrebbero o non avrebbero toccate quindi comunque complimenti era interessante ci sono sicuramente elementi da dibattere per cui non perdo tempo ora a fare le mie osservazioni che farò dopo dopo anche la discussione di Federica dunque passiamo a Luigi Cirillo il titolo della sua relazione è Li gesti et le parole il teatro politico alla corte di Ferrante d'Aragona prego grazie allora buongiorno a tutti grazie per l'invito grazie per la presenza il mio il mio scritto che titola Li gesti e le parole il teatro politico alla corte di Ferrante d'Aragona cercherà di dare uno sguardo a quella che era la prassi politica alla corte di Napoli ponendo l'accento principalmente su determinati elementi quali potevano essere gesti quali potevano essere parole quali potevano essere reazioni emotive e quant'altro proporrei di iniziare partendo da questa lettera che dice questa lettera volimo leggi alla messa del re e letta che gliela verai volimo che tu noti molto bene che volto e dimostrazione farà e così li gesti e le parole formali tutte che esso te risponderà sicché minutamente possiamo intendere il tutto queste le parole con cui Galeazzo Maria Sforza Duga di Milano in una sua del 5 novembre 1473 notifica al suo ambasciatore a Napoli Francesco Maletta quanto fosse indispensabile per la corte milanese che l'oratore nel riportare notizie al suo signore prestasse attenzione alle reazioni del re in particolar modo alle sue espressioni facciali in modo da poterle poi riferire minuziosamente sicché minutamente possiamo intendere il tutto una richiesta tanto più pregnante se letta alla luce della difficile situazione politica peninsulare che vide non soltanto le due corti contrapporsi fin quasi alla guerra ma anche la stessa pace d'Italia messa in bilico ma cosa muoveva questa necessità perché lo Sforza sentiva così forte il bisogno di intendere minutamente le espressioni e le reazioni dei re di Napoli e la risposta a questo quesito cercherà di essere diciamo il fulcro di questa ricerca diverse erano innanzitutto le questioni che ponevano sul filo del rasoio i rapporti tra le corti di Napoli e la corte di Milano c'era la successione del regno di Cipro in cui l'ingerenza di Venezia era appoggiata da Milano mentre invece anche il regno di Napoli aveva cercato di dire la sua proponendo il matrimonio tra la Carlotta figlia del defunto sovrano del risola Re Giacomo e un bastardo del referrante c'era poi la rottura dei rapporti tra Napoli e la Serenissima iniziati nel 1471 ma che intanto avevano scontentato non poco Galeazzo c'erano poi i sempre più crescenti ma soprattutto meno nascosti rapporti e legami tra Milano e la Borgogna e poi c'era la cosiddetta crisi della bastita del Panaro ed è proprio intorno alle vicende di quest'ultima limitatamente agli episodi che diciamo si comprendono tra la fine del 1473 e la sua conclusione nel 1474 che cercherò di muovermi utilizzandolo un po' come una sorta di impalcatura cronologica al fine di studiare la prassi politica del re di Napoli capace di dirigere abilmente non soltanto i propri congiunti ma fino anche i propri avversari politici grazie a un sapiente uso della diplomazia e soprattutto di una finamente elaborata pratica di dissimulazione d'altro canto gli studi in merito della professoressa Lazzarini gettono luce su quanto i gesti e le azioni fossero ormai entrati a pieno titolo nella prassi diplomatica tardo-mediavale italiana tale bastita rappresentò in un primo momento il seme della discordia tra i bolognesi e il duca di Ferrara a Ercole d'Este la questione infatti era destinata però a non limitarsi a così ristretti confini i bolognesi erano da tempo sotto la protezione del casato Sforza mentre invece il duca Ercole era genero dell'Aragonese avendone sposato la figlia Eleonora quindi che le due forze scendessero in campo diventava necessario ed inevitabile a tal proposito apprendiamo dai annali della città di Bologna che gli screzi tra i bolognesi e il duca d'Este iniziarono già nel 1471 a causa della bastita del Panaro inizialmente una costruzione in legno voluta proprio dai bolognesi al confine con le terre dell'Estenze genero e protetto del re di Napoli veniva poi fatta fortificare e fare in pietra col beneplacito e il supporto di Galeazza Maria Sforza la questione scontentava non poco Ferrante il quale allorché si celebrarono le nozze tra sua figlia e il duca di Ferrara non tardò a mostrare il suo volto con Ippolita Maria Sforza questa infatti era sì moglie del figlio Alfonso ma era anche lettera del 5 novembre 1473 nella quale riferisce del colloquio con la suddetta Madonna infatti i due venivano in rasonamento dell'alterazione e impazienza mostrato il re della bastita allegando questo essergli troppo duro a comportare perché il duca Ercole ha sua figliola in casa diversi sono gli aspetti di questa brevissima missiva importanti ai fini di questa ricerca innanzitutto la scelta degli interlocutori il grado di parentela acquisito con Ippolita permetteva al re un parlare che si svincolasse dai canoni formali che avrebbe dovuto tenere con la sforza tuttavia il rappresentava comunque un canale di comunicazione in diretta con il duca di Milano e quindi tramite il quale mostrare la sua indignazione pertanto diventava una pedina importante sulla scacchiera diplomatica del sovrano in secondo luogo c'è l'alterazione e impazienza mostrate dal re una volontà di sbilanciarsi e di rendere palese la propria disapprovazione che si evidenzia più palesemente in un'altra lettera sempre del maletta ma data da 2 novembre 1473 l'oratore Sforzesco infatti riferisce di aver avuto un colloquio privato con il re e col suo segretario Antonello Petrucci ancora una volta il carattere non pubblico dell'incontro permette al Ferrante di darci un assaggio di quelle che sono le sue reali capacità dialettico-politiche il malese infatti descrive un sovrano furente a tratti arrogante in netto contrasto con il suo celebre e conosciuto autocontrollo alla vista di una lettera provenita da Galeazzo infatti egli da poi che l'è beletta della in mano del segretario cum acto più presto sdignato che grazioso accusa poi di Galeazzo di volerlo battere della bastita del panaro perché riteneva non avesse agito secondo quanto questi si aspettava circa la questione cipriota inoltre dichiara di sapere molto bene delle intenzioni dello sforzo di finanziare i bolognesi affinché questi fortificassero la bastita una trama quindi per lui ordita al fine non solo di togliere il pedaggio del fiume al duca Ercole con l'introduzione di una nave da guerra voluta proprio da Galeazzo ma anche di colpire la corona napoletana nel suo onore infatti gli afferma tutte queste cose scusate ho perso tutte queste cose sono fatte in mio dispetto e contento arriva poi a gran voce la minaccia innanzi si sanguineranno più di due camise il fa poco caso di me io ne farò manco di lui e lui ha poco bisogno di me io non ne ho manco di lui io ricercherò il papa veneziani e fiorentini che vogliano insieme con me intravenire alla difesa del duca Ercole queste e altre parole furono dette con ira e collera grande indubbiamente un parlare che stupisce per i toni che il monarca adotta con l'oratore sforzesco le minacce di una guerra e l'estrema superbia con la quale Ferrante afferma di non avere affatto timore e bisogno dello sforzo riflettono un'ostentazione di superiorità tanto militare quanto politica rispetto al Ducato di Milano che sembra necessario sottolineare una provocazione non da poco è importante fare attenzione a certe dimostrazioni emozionali una tale rottura del consueto codice comunicativo dovuta a una così marcata reazione rabbiosa da parte del re non si incontra tanto spesso nei dispacci in generale infatti gli oratori tendevano a non enfatizzare certi episodi non soltanto per rafforzare l'impressione nei loro signori che la situazione fosse tenuta abilmente sotto controllo ma anche per far passare l'idea che la Concordia tra le due parti regnasse la risposta milanese non tardò ad arrivare Galeazzo infatti scriveva maletta di come i bolognesi spontaneamente avessero consegnato per mezzo di Carlo Antonio Fantuzzi esponente della nobiltà bolognese capitano del reggimento di guardia della struttura la bastita nelle mani di Roberto Sanseverino d'Aragona figlio della sorella di Francesco Sforza e quindi cugino di Galeazzo nella stessa lettera lo Sforza specificava come la decisione di prendere in sé la bastita non fosse stata voluta direttamente dai milanesi che addirittura si professavano renitenti di non volerla accettare ma dall'insistenza delle persuasioni bolognesi alle quali la corte educale non poteva sottrarsi considerato i grandi benefici fatti reciprocamente l'uno dell'altro e così la singolare benivolenza quale continuamente casa nostra ha tenuto con ditti bolognesi al contempo lo Sforza non mancava di sottolineare la sua convinzione sul fatto che Ferrante Como Savio e Prudente non avrebbe agito secondo quanto detto quindi compromettendo di conseguenza la pace in Italia da questo momento per i successivi due mesi soprattutto la questione occuperà un ruolo preeminente nei rapporti tra le due corti continue saranno le lamentele del re nei confronti del duca di Milano che l'oratore non mancherà di riportare volta per volta i dispacci oltre a costituirne una prova offrono la possibilità in questo caso di intravedere la macchina di Ferrante in azione così come le reazioni che questa poteva suscitare su chi vi si trovava dall'altra parte in questo caso Galeazzo in primo luogo c'è da sottolineare l'atteggiamento del sovrano nei confronti di Maletta egli prende palesemente ad ignorarlo in pubblico preferendo conferire con l'oratore veneziano in quel momento a Napoli Zaccaria Barbero in un atteggiamento che Maletta comprende molto bene tanto da dar negli stessi una spiegazione al suo signore quando in una sua del 15 novembre 1473 scrive poi la notte seguente partì senza parlarmi né alcuna cosa farmi dire peomo degli suoi il che vostra signoria deve intendere molto bene ha voluto il re dimostrare e conservare questo silenzio meco da essere malcontento e sdignato con la vostra eccellenza non mancava inoltre di far trapelare notizie interne come l'ordine al conte di Urbino che perseverandosi in fortificazione l'abbastita questi cavalchi e non badi a spese per demolire quanto di nuovo sarà innalzato un simile da comportamento è da rapportare a una lettura della plastica quattrocentesca il cui fulcro era la progressiva adozione della pratica di gestire i rapporti interstatali tramite ambascerie fisse di oratori ai quali era affidato il compito di dirigere tutte le questioni che potevano nascere tra lo Stato che li aveva inviati e quelli che li ospitava questo comportamento questo comportava necessariamente che tali ambasciatori in qualità anche di professionisti della scrittura trasmettessero prontamente qualsiasi informazione di cui fossero venuti in possesso determinati gesti e atteggiamenti quindi acquistava un'incredibile forza comunicativa considerato che sarebbero stati inevitabilmente riportati alla contraparte diplomatica c'è poi il duca di Calabria suo figlio nel corso della questione più volte Maletta riferirà di aver avuto colloqui con quest'ultimo dimostrandosi elemento essenziale della strategia del padre Alfonso infatti perorerà la causa paterna mostrando di turbarsi e alterarsi per la questione romagnola questo tuttavia rappresentava l'altra faccia della corona napoletana quella desiderosa o almeno tale voleva apparire di ristabilire i rapporti di amicizia momentaneamente inclinati e infatti non credeva mai provare maggiore affanno quanto prova al presente vedendo la eccellenza vostra venire a ruptura col signor re e suo padre ad posta di una così minima cosa quanto è la bastita del panaro il suo però non è del tutto il ruolo dell'intermediario pacificatore nel suggerire allo sforzo di abbandonare la questione e radere al solo la bastita l'erede al trono si stende ancora largamente che vostra signoria avrà malo partito in questa ruptura perché non porrà resistere alle gente e la potenza e al tesauro del signor re una minaccia quindi non troppo velata che riprende l'ostentazione di forza regnicola presente anche negli atteggiamenti del padre tale coincidenza certo non può essere causale alfonso non fu il solo della famiglia reale a dire la propria sempre in linea con quella del padre voci ostili a Galeazzo arrivavano anche da Ferrara per mezzo di all'onore di suo marito Ercole i quali fortemente incalzavano il re l'essenza infatti si diceva incredulo del fatto che da quanto credeva di essere riguardato essendo genero del re di Napoli vedeva invece la sua posizione peggiorare questo perché il signore di Milano si stava spingendo a tanto proprio per scondentare il sovrano di Napoli chiedeva poi a gran voce insomma una strategia probabilmente architettata col preciso scopo di fare in modo che le notizie negative non giungessero soltanto da una sola voce quella del re ma venissero frammentate tra le varie fonti che in maniera più o meno diretta pressavano il milanese dopotutto per il sovrano partenopeo mantenere un certo codice comunicativo rimaneva un elemento necessario la serie frenetica di risposte provenienti dalla corte ducale alle notizie degli oratori ci restituiscono un'immagine di un galeazzo inquieto e incerto anche delle sue stesse convinzioni nonostante infatti si fosse detto fiducioso del fatto che Ferrante non avrebbe impracciato le armi chiede comunque al suo ambasciatore di stare continuamente vigilante e accorto che si facesse movimento e provisione di gente d'armi e nel caso di avvisare immediatamente ancora e qui ritorniamo al punto di partenza dal quale è partita tutta questa analisi chiede di prestare estrema attenzione alle reazioni e alle espressioni del re per meglio comprenderne le intenzioni esortava inoltre l'ambasciatore a non aprire mai per primo l'argomento della bastita e qualora ci si fosse ritrovato per rasonamento da altri avrebbe dovuto rispondere sobriamente e con belle parole quale non esprimono troppa cagliardezza neanche dimostrazione di timore né paura insomma immagine evidente di un uomo stretto nella morsa di incomprensione e timore di apparire debole per quanto egli cercasse di nascondere tale condizione non è difficile scorgere indizi che ne tradiscono le intenzioni chiede infatti a Maletta di incontrarsi con Alfonso col conto di Maddaloni col segretario Leggio quindi con tutti coloro che avrebbero potuto in qualche modo influenzare la politica di Ferrante e con chiunque altro gli parerà bene per ricercare un accordo tra le due corti esprimendo la necessità che ambo le parti dialogano con più chiarezza la ricerca di rassicurazioni lo spinge a mandare Maletta addirittura da Diomede Carafa a braccio destro del re alla ricerca di una conferma dell'affetto e della stima da parte di Ferrante proprio il Carafa infatti affermerà se tu o lo signore tuo avete opinione che il re estime e ami più il duca Ercule che il duca di Milano siete in grandissimo errore perché lei è il contrario insomma messaggi contrastanti che impedivano alla corte di Milanese di avere una chiara lettura delle intenzioni della controparte d'altro canto lo stesso Maletta mettiva bene in guardia il suo signore dal soppesare bene le lettere di Ferrante preoccupato com'era che sua maestà non sia stato costante in questo suo proposito di riconciliazione che si profilava all'orizzonte poi del 1474 la questione si trascinerà a fasi alterne fino al settembre dello stesso anno ma momento in cui si risolverà anche grazie alla mediazione di Papa Sisto IV ma volendo sorvolare su un'analisi emmenenziale della vicenda che non è oggetto proprio di questa ricerca è necessario tuttavia soffermarsi su poche altre missive fondamentali per avere un quadro di insieme degli argomenti trattati la prima è datata 16 febbraio 1474 siamo nella fase più critica del confronto e la sua importanza deriva dal contenuto capace di mostrare con estrema chiarezza la capacità organizzativa e manipolatori di Ferrante in occasione di festeggiamenti a Castelnuovo il re prende per mano Maletta e lo conduce insieme alla nuora Eppolita nelle stanze private della figlia Beatrice il gesto del prendere per mano introduce l'ambasciatore in un solo apparente clima di tranquillità col sovrano lo spostarsi in una camera privata per l'ennesima volta sposta la conversazione dalla dimensione pubblica formale diplomatica a quella privata mentre la scelta di una stanza chiusa e personale intende enfatizzare l'importanza di quanto è resta per dire presenti anche in questo caso sono soltanto il re il suo segretario Petrucci Maletta e Eppolita indubbiamente gli attori di questa messa in scena organizzata ad arte non sono casuali sedutosi l'un accanto all'altro Ferrante rompe la fictizia e tranquillità cominciando a dolerse senza fine e a muovere una serie di accuse verso il Duca di Milano parte dalla questione di Cipro altro argomento che non tratterò in questa sede continua poi con i dispiaceri inferti dal Duca a caso della sua vicinanza ai francesi a casa Savoia inaccettabile poi lo sparlare continuo che di lui fa lo sforza il se lamenta che sempre voi state com la bocca aperta a quelle larve e biasimarve de lui e in morderlo e obrobriarlo imputandogli mancamento de fede e dicendo che non ve poti difidare de sua mestà soggiungendo io non son però così tristo uomo che io meriti omne di esser menato per bocca non manca poi qualche piccola offesa diretta a conclusione di un'accusa ben strutturata di me se è veduta esperienza assai del Duca poca neanche la casa mia è così bassa e trista che la merita essere post ponuta e fatto ne poco punto è il momento poi di inserire Petrucci suo segretario nella discussione chiamato a comprovare le accuse mosse questo infatti portava con serie lettere dell'ambasciatore reggio Antonio Cicinello sulla base delle quali il re muoveva la propria critica finalmente concluse che il voleva madonna e io vedessimo tutte le lettere del messer Antonio Cicinello a ciò che gli udicassimo se sua mestà aveva razione di fare questa doglianza è chiaro che il fortissimo impatto che un così elaborato discorso si proponeva di avere ed eccezionalmente raggiunto non fosse stato diretto solamente a Maletta la stessa Ippolida infatti che per volontà del re è bene ricordarlo era presente nella stanza ne rimaneva colpita tant'è vero che madonna vostra sorella udendo così longa e grave querella rimase tutta sbigottita e dolente e con poche buone parole si sforzò a placare l'ira e la collera del re il secondo atto è il coronamento di una sceneggiatura studiata a dovere dopo essersi congettato dal re infatti l'ambasciatore riferisce di incontrare per sua ventura il duca di Calabria il quale parimenti al padre fece una stampita dolendose dei vostra eccellenza che avesse ditto come Antonio Cicinello che quanto io abbi scripto questi di passati dei suoi commissioni a vostra signoria sia artificioso e fraudolento e che tutte erano inventive e modi del re per aggarbare vostra celsitudine un dedicesso duca non fu mai suo costante aggarbare a nessuno massimo e notale signore come voi siete e suo cognato e che da me innanzi né di questa né d'altra cosa vostra se vuole impazzare ecco quindi l'ultima carta di Fernanda giocata col preciso scopo di portare maletta allo sfinimento tant'è vero che questi dopo avergli sposto con bello modo si spizzai dalle mani sue indubbiamente la strategia del re coglie perfettamente il segno specialmente alla luce della risposta che Aleazio invia dal suo ambasciatore il 26 febbraio successivo egli infatti afferma di aver ben compreso le parole di Biasimo del re pronunciati in presenza della stessa Ippolita tra l'altro ritiene vera l'accusa di non avere le stesse capacità di governo del padre Francesco e cercherà di non dare più così tanti dispiacere al re e di coltivare di più la loro amicizia ordina poi all'oratore di leggere la sua missiva alla corte ragionese con garbo e gentilezza ma soprattutto con il sorriso un prezioso esempio di come il linguaggio politico specialmente in situazioni difficili o importanti come questa si accompagnasse necessariamente a una precisa serie di atti comunicativi non verbali che ne costituivano la sostanza arriviamo così al giugno del 1474 la questione sulla via della sua risoluzione definitiva gli animi si placano Ferrante abbandona il suo animo eroso per tornare a essere il sovrano morigerato di Napoli cambia radicalmente anche il suo modo di porsi nei confronti di Maletta e di riflesso del Duca di Milano a tal proposito due sono le lettere che in maniera più chiara dimostrano questo repentivo cambio di rotta la prima è del 14 giugno appunto del 1474 nella quale l'oratore riferisce di un fortuito incontro con il re e dell'amichevole trattamento ricevuto e risera andando ad cavallo a pigliare un poco d'aere ma incontrai appresso ad Castello Nuovo nella maestà del re fe come domandare per maestare Alberico Carabio io andai da sua mestà alla quale essendo in mezzo del dicto conte et demi tenendo sempre il conte per mano dritta cavalcò ad casa del principe di Salerno rasonando sempre con me de cose domestiche domandome primariamente del benestare della vostra eccellenza tuttavia anche nella pace gli incontri conferanti non sembrano mai avvenire solamente per casualità il sovrano infatti dopo essersi congedato affida il compito al Duca di Urbino anche gli presente di riaccompagnare l'oratore a casa durante il tragitto Federico da Montefeltro entrando in vari ragionamenti col maletta non mancava di sottolineare che nonostante le divergenze tra la corte napoletana e quella milanese sembrano ormai appianarsi sempre di più bisogna esso tempo ad mollificare e deponere l'animo del re e il cuore vede essere entrata tanta diffidenza infine l'ultima del 18 giugno 1474 in occasione di una festa data in onore della sposa di Costanzo Sforza il re nuovamente ha un colloquio con l'oratore maletta infatti riferisce al suo signore la messa del re mandò ieri per me ad la festa giungendo da quella il conte d'Urbino assettato presso dicta maestà se le vuoi sucso cedendome quello loco e il quale accettai essendone ancora invitato dalla messa del re la quale in cospetto di tutta la brigata mi raccolse molto copidamente e graziosamente e da poi che io fui assettato se mise ad rosanamento con me insomma dicendome tante buone parole facendome tante feste carezze pubblicamente che il fu una meraviglia e cosa insolita de indese le voe e andò alla camera sua in mezzo dell'ambassatore fiorentino e de mi tenendome per mano dritta e per mezzo sotto il brazzo e rasonando insieme continuamente dei cose amorevoli e piaceve e mi condusse in queste parole che omne di el voleva che io fossi da sua mestà per poter parlare con me e conferire delle cose sue esempi questi di quello stesso linguaggio diplomatico non verbale già incontrato prima la scelta infatti di un palcoscenico quale il salone di Castelnuovo in occasione di festa uno spazio quindi grande e ricco di simboli del potere sovrano avere il permesso non solo di sedersi ma farlo presso dictamestà facendo peraltro alzare un personaggio di rango decisamente più elevato qual era il conte d'Urbino il parlare graziosamente e di fronte a tutta la brigata tutti gesti non casuali ma diretti a sottolineare la reciprocità dei poteri pur senza dimenticare di sottolineare una sostanziale differenza di rango e sottolinearlo attraverso l'importanza del luogo e della non libertà di maletta di scegliere persino dove sedersi per concludere quindi alla luce di quanto osservato tenterò di dare una risposta al quesito dal quale questa analisi si è mossa quindi qual era la ragione che spingeva Galeazzo a questa convulsa esigenza di letteralmente osservare espressioni e reazioni del re la soluzione è relativamente semplice quello che potremmo definire teatro politico della corte aragonese si dimostrava essere estremamente ben congegnato una rappresentazione in cui tanto il sovrano quanto fino anche i suoi più vicini congiunti indossavano una maschera volta al darlo a un ruolo ben preciso nella sceneggiatura politica messa in atto dal re il groviglio di voci talvolta anche discordanti misto agli ambigui e volutamente poco celati atteggiamenti di Ferrante nei confronti dell'oratore sforzesco si traducevano inevitabilmente in un traffico di informazioni verso la corte milanese estremamente disorganica che apparentemente sconnesse tutto ciò doveva necessariamente avere il chiaro obiettivo di creare confusione nella contraparte diplomatica è lecito affermare dunque che le esigenze espresse dal duca di Milano derivassero dall'impossibilità di penetrare la rete di informazioni veicolate dal vasto eterogeneo entroace del sovrano una condizione questa che valeva tanto per la corte quanto per quell'esperto oratore statista qual era il maletta quindi la logica conseguenza di una così magistralmente ordita trama dissimulatrice non poteva essere che una Galeazzo non era in grado di comprendere le reali intenzioni di Ferrante d'Aragona grazie grazie a Cirillo come avete visto ci ha mostrato selezionandoli con acutezza alcuni straordinari esempi della qualità di questa corrispondenza che entra nelle intenzioni degli interlocutori che osserva i movimenti le espressioni facciali il toccare la mano che ora è segno positivo ora è un pericolo terribile come nel caso che ci ha raccontato Grieco neanche le lettere si possono toccare forse pensando che ci fosse del veleno sopra e quindi abbiamo anche in questo caso ripercorso una situazione tipica della corte napoletana e di molte corti cioè l'essere una cassa di un centro di decisioni ma al tempo stesso come dice il titolo un teatro politico una autorappresentazione in varie forme di pubblicità cioè quella della festa pubblica e quella che non è completamente privata all'interno delle stanze del castello dove Maletta viene maltrattato in qualche modo nel senso che veramente con una certa forza con minacce chiare con querela lunga si esce fuori dalla consueta comunicazione equilibrata dei rapporti diplomatici quindi anche in questo caso una gran quantità di stimoli che consentono sicuramente a Federica Cengale di fare osservazioni interessanti sulle due relazioni e poi ne fareò anch'io ne faremo sicuramente anche gli altri ma diamo prima la parola a lei grazie allora grazie grazie ai relatori per le loro belle i loro belli approfondimenti e dunque una mole impressionante anche di dati e di informazioni più organizzate anche ho apprezzato molto il quadro rapidissimo introduttivo di Luigi Cirillo che ha cercato comunque di ricondurre con brevi frasi il contesto cosa molto importante quando si presenta a un auditorio che non sempre è addentro a queste cose anche ma al di là di queste sono notazioni formali assolutamente che dire di questa congiura presunta congiura mi spaventa la mole sterminata di documentazione che teoricamente dovrebbe essere affrontata al di là delle cartelle che mancano dello sforzesco per accertare l'eventuale è molto interessante come ipotesi tante le domande a partire dall'identità di questo personaggio che è un lombardo e quindi diciamo che cosa che aprirebbe ulteriori ulteriori ipotesi circa la possibile origine di questa perché non è da connettere solo l'ambiente napoletano europeo ma anche a quello lombardo probabilmente e diventa veramente un discorso interessante stimolante però forse non facilissima padronanza però vediamo un pochino che cosa ci offriranno le prossime l'analisi delle cartelle ancora ancora inaccessibili comunque concordo con Francesco Senatore sul fatto che queste congiure diciamo appunto vadano analizzate solo nel momento in cui forse si realizzano perché altrimenti ecco per quanto riguarda l'intervento di Luigi Cirillo è molto interessante veramente questa attenzione al anche allo spazio diplomatico non verbale per citarla molto interessante anche qui difficilissimo da decrittare però sicuramente c'è una volontarietà è un tentativo di gestire da parte di Ferrante queste informazioni al tempo stesso anche alla luce delle suggestioni che erano venute ieri dall'intervento di Armida Toraldo bisognerebbe capire anche quanto di queste di questo meccanismo che lei attribuisce a Ferrante giustamente veda però anche la partecipazione dello stesso Maletta e sullo sfondo anche di Isabella cioè il tentativo forse di Polita sì scusate scusate di Polita cioè il tentativo proprio di condurre anche Gian Galeazzo Galeazzo Maria ecco oggi proprio con i nomi di condurre Galeazzo Maria laddove forse laddove si voleva ecco in cui non è solo Ferrante l'unico magari l'unico attore cioè vedere esplorare questa possibilità no cioè che sia un'azione non concertata però comunque in cui non so un'ipotesi ecco di lettura per quanto appunto sicuramente appunto il ricorso a queste espressioni verbali a questa gestualità ecco caricata sia chiaramente uno strumento politico anche politico diplomatico ecco queste sono soltanto le osservazioni comunque davvero interessante proprio anche come traccia di ricerca mi conferma che appunto partendo comunque da un'unica da questa cartella eccetera ognuno di voi ha trovato strade autonome diverse e anche originali insomma di lettura che ecco vogliamo fare non so volete rispondere o volete aggiungere qualcosa ma tu hai seguito sì sì volete aggiungere qualcosa ma è quella di dire professore no allora sì assolutamente la documentazione da consultare da un lato sì queste famose cartelle dell'archivio di Stato delle potenze sovrane del carteggio interno soprattutto ma dall'altro lato anche una serie di notizie invece molto più sparse vorrei andare in archivio a Ferrara per cercare di capire se c'è qualcosa lì perché è un punto cruciale e il problema è sempre relativo all'origine di questo Francesco perché in realtà Sissa se fosse veramente Sissa nel Parmense che è una zona diciamo di confine e il problema sarebbe ovviamente diverso però è anche lì cioè se poi questi movimenti sono reali serve comunque una forza economica e temporale cioè di tempo dietro quindi anche se sicuramente questa è una cosa che credo se la congiura è reale sicuramente intercetta dei malumori di quelle aree però il problema è che scusi dei malumori di quelle aree però penso anche dall'altro lato che ci serva serva anche un investimento maggiore e quindi per questo anche avevo pensato a un'implicazione napoletana più forte insomma da dare sostegno anche perché ad esempio in quella lettera quelle cose relative a Carlo da Faenza cioè in quel caso c'è Carlo Maianfredi da Faenza e c'è il fratello Galeotto che se non mi sbaglio ha la signoria di Imola e sostanzialmente c'è tutta una diatriba tra Galeazzo che appoggia Galeotto e invece questo Carlo che è appoggiato da Ferrante e sostanzialmente Carlo da Faenza scrive tantissime volte a Ferrante affinché per mediare con Galeazzo e Galeazzo fa lo stesso al contrario per far sì che Ferrante non appoggi Carlo perché tra i due non correva buon sangue per una serie di motivazioni quindi in realtà anche da una realtà molto piccola ma romagnola e quindi un'area piena di conflitti in realtà c'è questa sorta sempre di guerra fredda in un certo senso tra le due potenze quindi se effettivamente Francesco Delea di Alexandri è da da Sissa dove ci sono i terzi di Sissa effettivamente può darsi che sia in dinamiche di questo tipo però è da insomma devo lavorare molto ancora sicuramente sì circa la questione che non fosse soltanto Ferrante a veicolare le notizie che arrivavano in qualche modo a Maletta e quindi di conseguenza anche a Milano anche studi recentissimi del professor Sorsi hanno dimostrato come tutta la corte diciamo una coletana partecipasse a questa opera di veicolazione di informazioni quindi sì sarebbe anche interessante andare ancora di più a scavare quelli che sono gli effettivi ruoli magari anche decisi di ogni singolo personaggio che dovevano avere come diciamo specchio rispetto a Maletta rispetto a Galeazzo sì questo senz'altro è poi emerso molto bene l'unica cosa che il mio invito era di parte diciamo era soltanto era soltanto quello di considerare sempre una dinamica lombarda che non è così coerente e diciamo attorno all'azione del Duca e che sia nell'uno che nell'altro caso potrebbe essere intervenuta non come promotore ma comunque come coinvolta come attore attrice partecipe ecco solo questo perché appunto anche perché la congiura definitiva contro Galeazzo Maria è benissimo sì posso se posso aggiungere sì tra l'altro io notare si nota e questo magari questa è una prima domanda a Cirillo ma anche agli altri che hanno letto la stessa documentazione si nota leggendo le lettere spedite da Milano che sono spedite da Pavia perché Galeazzo Maria sta a Pavia mentre Cicco Simonetta spesso sta a Milano quindi si crea anche lì e anche Cicinello spesso sta a Milano e va a Pavia quando deve parlare con il Duca dunque come diceva anche l'agliico bisogna vedere il carteggio interno perché ci sono lettere che sono state messe lì ma che riguardano che è una cosa che non capita a Napoli nel senso che noi non abbiamo a Napoli la lettera dell'ambasciatore al re mentre nel carteggio interno di Milano troviamo le lettere di Cicinello al re di Cicinello a Simonetta dunque io notavo stavo dicendo una certe volte ma si è vista anche in qualche citazione di Cirillo un forte sbalzo proprio nel tono della lettera di Galeazzo come se fosse stata scritta non aderendo pienamente a queste intemperanze di Galeazzo magari con l'intervento di Cicco Simonetta perché effettivamente sembrano fatte da due persone diverse insomma dopo quella sfuriata con questo Galeazzo Maria scrive una lettera molto cortese e addirittura deve essere letta col sorriso sulle labbra insomma non è detto che siano ondeggiamenti umorali di Galeazzo Maria ma potrebbero essere l'effetto di queste tensioni interne addirittura fa quasi una missione di colpa lui afferma e infatti non è insomma questo appunto è interessante due osservazioni e due domande sempre per essere un po' simmetrici cioè l'osservazione generale che anche in questo caso e me ne compiaccio i due interventi si sono trovati molto organicamente collegati perché in sostanza manifestano due episodi indagati con attenzione di una rottura di fiducia perché questo succede in questi mesi di una rottura di fiducia che rende insicuro l'intera rete di relazioni personali e non tra le due corti che invece da una ventina d'anni e più sono intensamente collegate e questo provoca una difficoltà di lettura di tutti questi segni di tutti questi segni comunicativi le parole le lettere i gesti le mani gli sguardi la comunicazione è sempre soggetta a questo problema la stessa toccare la mano ha due significati opposti prendere maletta e portarlo nelle camere sedersi e c'è una scena bellissima con Datrezzo e Ferrante nel 1458 è identica ma il significato della comunicazione è a successo è il massimo della intimità perché ovviamente c'è una situazione diversa delle parole diverse e degli sguardi quindi la difficoltà che hanno i protagonisti e perciò osservano e perciò riferiscono le formali parole è decifrare l'ambiguità di questi segni in questa situazione e l'altro problema che hanno questo pure è un problema molto interessante su cui è stato lavorato a proposito delle spie è il problema dell'accertamento dell'identità questo è molto bello nella istruzione che ci ha letto Daphne Grieco quando si dice che di questo di Alexandri se non sbaglio di uno dei due bisogna ah no dello spagnolo bisogna accertare lo stato il grado la fama e la condizione quindi l'identità di una persona è fatta da questo complesso di cose e questo anche è molto molto interessante il fatto che viene senza essere presentato all'improvviso quindi tutta una serie di diciamo di sistemi di riconoscimento un'identità che quindi è un'identità in qualche modo politica anche diciamo così non un'identità semplicemente anagrafica come nel caso nostro le due domande una è a Daphne Grieco una curiosità perché non capisco come possa Antonio da Pesaro fare Cavaliere di Alexandri cioè da dove viene questa informazione perché è impossibile che una persona come non è possibile non può essere fatto cavalire in certe situazioni a opera del re dell'imperatore o sul campo ma sempre da un comandante non lo so le chiedevo dove ha preso questa informazione là invece per ma questo riguarda un po' tutti e due ma insomma in particolare Cirillo come Cirillo ha distinto bene i contesti in cui Ferrante manifesta o la sfiducia o invece la gratificazione nei confronti di Maletta gli chiedevo se non pensa di distinguere un po' meglio questi spazi della Corte rispetto all'opposizione che ha usato di pubblico e di privato che mi sembra troppo netta diciamo io direi sono tutti pubblici però non sono tutti pubblici allo stesso modo però appunto volevo vedere che ne pensa allora dunque l'informazione che io spero di aver interpretato correttamente però insomma poi mi dirà meglio lei ce la dà lo stesso Maletta attraverso Palermo attraverso questo Diego di Lison e dice proprio Francesco di Alexandre il creato che fu d'Antonio da Pesaro testuali parole ma creato cosa c'è dopo creato nient'altro quindi io allora è un creato cioè un famiglio è un famiglio è uno spagnolismo non so se insomma i creados o i creat in catalano sono i famigli l'italiano quattrocentesco è il famiglio ed è bello però che la parola sia usata da un milanese perché la usa a proposito di una e Antonio da Pesaro non avrebbe detto che era suo creato avrebbe detto famiglio o servitore per la questione degli spazi che indubbiamente ricoprono un ruolo importante diciamo che Ferrante sembra non essere mai casuale lo spazio che utilizza per avere questi collochi io quando dico non pubblico intendo dire una sorta di conversazione che tenta di staccarsi da un canone formale di comunicazione diplomatica e quindi per non pubblico magari una stanza privata quindi come ad esempio poteva essere la stanza di Beatrice che magari si potrebbe anche mettere a paragone con una comunicazione più pubblica quale è quella là nel salone di Castelnuovo in un momento di festa e quindi di conseguenza anche l'importanza l'importanza di incontrarsi nei pressi di Castelnuovo quando si incontra a cavallo l'importanza di trovarsi tra l'ambasciato tra il Duca e il Re quindi la posizione che Ferrante anche attribuisce a Maletta Sì sì no ma lei ha distinto bene diciamo la mia osservazione è che sembrano tanti gradi di pubblicità nel senso che è comunque uno spazio pubblico di comunicazione e il fatto che una persona venga accolta nelle stanze l'informazione che passa lo vengono a sapere tutti quindi è già anche quella passa ancora di più importante se quello si siede a fianco durante la cerimonia cioè è la difficoltà di usare queste due opposizioni nostre chiare di privato e di pubblico in una corte che fa di tutto il privato e il pubblico insomma da un certo punto di vista come fare facciamo in modo un po' diverso noi oggi attraverso i social diciamo vediamo se c'è qualche eh altro intervento mettiamo magari questo allora ieri è stato evocato il trono di spade oggi siamo in pieno ambiente di CSI ma è cold case un po' mi fa impressione diciamo il fatto che Francesco Senatore pensa le stesse cose che penso io ce le ho scritte qua c'è una prova è una cosa abbastanza impressionante e anche inquietante certamente Antonio da Pesaro non poteva far cavaliere nessuno però non ricordo se Antonio fosse messer cioè fosse già cavaliere in tal caso avrebbe potuto farlo però in ambito mercenario è impossibile perché ci vuole un'autorità Alessandro Sforza può fare cavalieri su delega per esempio ed è un signore allora sulla questione di questa lettera non mi esprimo perché sto pubblicando in queste settimane un saggio di 30 pagine quindi proprio su questa lettera del 16 febbraio qua ovviamente questi spazi sono tutti pubblici poi c'è sono tutti pubblici poi ci sono delle varianti perché ma chiaramente l'intervento di Luigi Cirillo non era solo su questo però ci sono degli spazi che sono fintamente privati come questi che semplicemente provocano poi un giro dell'informazione un po' diverso quindi su questo poi magari appunto ho ragionato un bel po' quindi ci ho scritto la cosa che vorrei sottolineare un po' sono queste due questioni la prima è una questione che mi sta molto a cuore ed è quella diciamo del mondo mercenario peraltro io sto per fondare un centro di ricerca che non sia un divertimento ma sia diciamo un centro serio di ricerca su questa grande civiltà anche una civiltà che anche dal punto di vista linguistico politico dà un grande contributo al rinascimento europeo il fatto che mi è sembrato di capire perché la cosa era talmente complessa che a un certo punto non la seguivo bene tant'è che io non sono fatto per i gialli in genere l'indovina sempre mia moglie la notizia rimbalza un po' attraverso Palermo a un certo punto esce fuori anche Cola di Monforte il conte di Campobasso sul quale anche rimbalzano delle informazioni giusto? è un'altra non è questa congiura ma sì no io parlo del mondo mercenario cioè delle implicazioni nel mondo mercenario così come vengono addirittura messe in campo delle specializzazioni quelle dei balestrieri sì i balestrieri a cavallo soprattutto anche napoletano iberici facevano paura a tutti perché erano i più violenti in assoluto cioè durante la guerra d'Otranto Ferrante mette in campo i suoi balestrieri a cavallo e anche i suoi cacciatori balestrieri a cavallo perché sono tutti giovani napoletani che portano dei sacchetti pieni delle mani dei turchi perché loro ammazzano i turchi gli tagliano le mani o più semplicemente gliele tagliano lasciandoli vivi perché diciamo si divertivano di più e quindi hanno dei premi perché portano di conseguenza è molto interessante questa cosa è una strategia un po' è una diplomazia a un certo punto io ho visto una diplomazia del terrore come se che entra peraltro in questa forma di disciplinamento un po' io non so se sapremo mai bene ricostruire l'identità di queste persone mi sembra che l'unico elemento reale di tutta questa informazione sia l'irrealtà del viaggio che fanno questi cioè la cosa che Daphne ha sottolineato perché era impossibile fare il viaggio e invece mi sembra che questa cosa si collochi molto bene in quello che è il paradigma Toraldo ormai io lo chiamo il paradigma Toraldo cioè di una necessità anche responsabile il maletta di creare un'angolazione di disciplinamento e di regolarizzazione dell'azione politica di Galeazzo che fa male maletta e ippolita ma questo poi ti mando questa cosa perché certo l'ho scritto ti mando questa cosa te la mando te la mando domani quindi certamente maletta e ippolita di adesso ne abbiamo parlato anche ieri cioè Milano Napoli corti che tentano di orientare e sincronizzare l'operato di questo quando non ce la fanno più uccidere perché è ingestibile è ingestibile lui fa delle cose anche folli lui a un certo punto fa finta di stare in un posto si allontana si allontana Galeazzo facendo mandare da Cicco sempre le lettere da quel luogo per abboccarsi con gli ambasciatori francesi cioè quindi è un personaggio abbastanza poco gestibile soprattutto io con questo da questo motivo di vista concordo pienamente con Federica soprattutto in Lombardia soprattutto a Milano cioè è un problema un problema grave quindi mi sembra che io spero che non si saprà mai conoscerà mai l'identità di questi e che tutto rimanga fumoso e meraviglioso come come ce l'ha raccontato Daphne perché è sublime ma è importante che Palermo io ritorno il fantasma di questa grande compagnia sforzesca di questa grande corazzata della compagnia del conte Francesco che agisce come una periferia o un centro della politica milanese ancora dopo la morte di Francesco del resto Francesco non è morto da tantissimo tempo e questa è stata una compagnia preclara che fin quando è stata una compagnia che ha conquistato uno stato perché guardare Francesco non c'aveva poi tutti questi alleati quindi era una compagnia straordinaria mastodontica che si è poi a un certo punto innervata infiltrata e nello stato c'è quel vecchio saggio degli anni 80 Francesco sforza da condottiero a Duc de Milano che è un piccolo saggio di nove pagine che però è molto sensazionale dal punto di vista del giusto peso emozionale che dava questa cosa che è una cosa molto grande cioè un condottiero che quando muore e qui c'è Antonella che un po' l'ha studiata questa cosa un condottiero che a differenza di un re che quando muore si fa il segno della croce la mattina alla sera sta zitto è molto bravo si piglia tutte le medicine sta a sentire i prive eccetera eccetera Francesco sforza da in escandescenza vuole mangiare sta a scalzo si alza si incazza perché? perché è un soldato è un soldato eppure lui è un grande statista ma è un soldato e questa è una cosa che mai abbastanza viene sottolineata un soldato diventa signore di uno dei più grandi stati europei quindi l'implicazione delle compagnie queste non sono dei tamarri che fanno la guerra queste sono delle persone che sono complementari a questo complesso gioco politico e hanno un livello informativo tra di loro di relazioni come soldati ulteriore anche un po' diverso anche un po' diverso anche un po' diverso concludo con un'altra diciamo suggestione delle tante che sono uscite da questo convegno di cui sinceramente io sono contentissimo penso anche Francesco lo sia ieri ci siamo complimentati a vicenda per la diciamo riuscita didattica perché qua credo che interventi di qualità scarsa finora non ce ne sia perché il panaro è così importante tra mille questioni così gravi ci sono i turchi alle porte c'è Cipro periclitante il duca di Borgogna sta facendo la guerra tutto quanto diciamo il problema straordinario è il panaro è ovvio anche questa è una questione diciamo di carattere diplomatico e anche militare portare le truppe in territorio del genere genero di ma lo sarebbe anche oggi di Ferrante perciò a Napoli come giustamente Luigi ha dimostrato l'ossessione il perno e il panaro cioè è questa bastita è questa casarella di legno questa piccola costruzione su questo quest'ansa perché è così importante ossessiva perché lo spiega in quella lettera che ha evocato Luigi dice qua ci sta il duca ma ci sta mia figlia qua quindi tu stai portando i soldati contro mia figlia è una dichiarazione di guerra la cosa mi sembra chiaramente illustrata da Ferrante noi la percepiamo meno la non viene ripetuta infatti Ferrante la dice là chiaramente perché era chiaro e il panaro giustamente ha sottolineato Luigi è ossessivamente riportato in questa cartella la cartella la potremmo definire 225 ovvero il panaro perché tra l'altro perché è portato e questa è una cosa invece da sottolineare cioè Galeazzo la più grande errore perciò qua entra in scena anche Maletta entra in scena anche Maletta Ippolita il grande errore il più grande errore la gaff politica più astrusa e goffa in questa diciamo complessa situazione per la quale Galeazzo non va bene c'era bisogno ancora di sforza o meglio della madre magari della madre Bianca Maria è proprio questo fatto di aver portato i suoi soldati in questa fortificazione è una dichiarazione di guerra al re tant'è che lui dice devo evocare non Firenze che cosa sono quelli la lega devo evocare la lega perché secondo i capitoli lega qualunque componente della lega venga minacciato di guerra può tranquillamente evocare gli altri quindi diciamo questa che volevo semplicemente sottolineare per una questione di studio per una questione diciamo anche di concretezza della discussione che questo è un fatto dal punto di vista politico veramente veramente grave va beh per il resto grazie relatori ci sono interventi sì sì allora in realtà è una cosa sulla quale ho ragionato lungamente anche con la collega perché diciamo non era di facile interpretazione perché ho pensato magari fosse un riferimento politico anche magari il pavone in qualche stemmaraldi o non so non siamo riusciti bene a venirne a capo in realtà la cosa che ho pensato che sia semplicemente un modo per una sorta di modo di dire per ma forse non so ne la tratterai anche tu non ne ho idea comunque una sorta di modo di dire per una costruzione una grande architettura cioè una pasta che ne manzariano i pavoni almeno ma è un'interpretazione del tutto così personale è una una cosa così grande che darà da mangiare anche ad altri addirittura avanzerà del cibo e infatti ordiscono la pasta che ne manzariano i pavoni e poi dice subito dopo mi frutterà 10.000 ducati e lo dice contestualmente al fatto che Diego Delisone non doveva preoccuparsi perché Diego immediatamente prima di questa confessione di Francesco di Alexandri ammette di trovarsi in ristrettezze e di avere una serie di problemi e quindi De Alexandri glielo dice per consolarlo in un certo senso e dire in qualche modo avanzerà qualcosa anche per te se mi aiuti almeno io l'avevo interpretata in questo modo legale esatto non so si deve approfondire è una questione potrebbe esserci anche un simbolismo comunque del pavone quindi vedere i bestiali medievali o vedere effettivamente cosa mangiavano i pavoni vediamo che mangi sì ma sono onnivori quando apprendo da internet e ti favo sì quindi è possibile che sia un cibo raffinato un cibo raffinato e quindi una somma consistente è simboli ecco sì 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 altre domande l'insistenza sulla bastia o anche come la chiamano la bastida mi fa mi ha fatte ricordare altre due che ho incontrato nei miei studi sono delle fortificazioni in legno quindi c'è un senso come dice un significato reale di occupazione del territorio come ha detto Francesco Storti in maniera in maniera innovativa cioè in luoghi dove non c'è nessuna dove non c'è nessuna protezione naturale che faciliti un assedio normalmente in occasione degli assedi si costruivano queste 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 bastie le due che ricordo ma ce ne sono anche altre ebbero un significato simbolico enorme una è quella che costruisce tra il 1441 e il 1442 Alfonso in Magnanimo mentre assedia Napoli e la costruisce nel cosiddetto campo di Napoli cioè in una zona diciamo tra il centro direzionale e Poggio Reale e qui dormono i suoi balestrieri e tutti i testimoni ne parlano come una cosa straordinaria a distanza di tempo si dice io ho dormito sulla paglia insieme agli altri che stavano nella Bastia aversa i privilegi da Ferrante quando si arrende perché ha contribuito a portare la legna per costruire la Bastia vicino alla Bastia si costruisce una cappella poi si costruisce la cappella è quella di Santa Maria della Pace dove si fa la processione per ricordare la vittoria per tutto il tempo dell'epoca aragonese per ricordare la conquista di Napoli e Facio Panormita le saltano come se fosse una reggia una cosa ovviamente impossibile e un'altra Bastia è quella che si fa a Dischia durante la guerra di successione per contrastare il castello di Dischia quindi sulla costa di fronte si fa una Bastia che costa 2000 Ducati al mese sulle Bastia poi si mettevano i cannoni insomma le bombarde e ci sono continui attacchi per scalzare e o visite ispezioni Alessandro Sforza viene portato pure Piccinino prima di essere arrestato viene portato a vedere questa Bastia di Dischia come una cosa straordinaria quindi quella sul Panaro da parte di Bologna diciamo aveva il significato di che ha detto Francesco Storti ma era comunque un'operazione economicamente e militarmente importante io forse direi di non fare la sosta perché purtroppo abbiamo cominciato un po' in ritardo e anche perché così col freddo restiamo ben congelati qui e possiamo procedere e se però non siete d'accordo tu che dici? Facciamo una sosta breve? Vabbè allora dieci minuti di sosta e poi cominciamo con la seconda sessione di oggi mentre mentre io non sapevo che c'era un omaggio di dei ragazzi di da Castellammare diciamo che ci hanno portato queste particolari zeppole imbottite di cioccolata questa colazione come si sarebbe detto nel nel quattrocento e e quindi la pausa era necessaria oltre che piacevole dunque invito Chiara Melchionno e Leo Donnarumma a sedersi a sedersi qui a fianco a me nell'ordine in cui parlano che è questo che ho detto e come prima poi avremo l'intervento di Francesco Montori un dibattito e le conclusioni di Federica Cengarle che sono relative a tutte e due le giornate dunque Chiara Melchionno ci parla delle espressioni paremiache una nota di colore nelle parole apte et convenienti degli ambasciatori prego buongiorno buongiorno a tutti innanzitutto e grazie per l'invito il mio intervento verterà sull'uso e la funzione di alcune espressioni linguistiche quale appunto le paremie ovvero i proverbi in senso stretto ma anche le locuzioni e i modi di dire che ho riscontrato nella lettura della cartella di cui ci siamo occupati proponendomi innanzitutto di rispondere ad alcuni quesiti i proverbi quindi espressioni tipiche dell'oralità se inseriti in un contesto in questo tipo di testi avevano una funzione se sì quale e in che modo condizionavano anche la funzione poi del testo stesso comincio quindi con una carrellata ecco di espressioni paremiache cercando poi di tirare un po' delle conclusioni bisogna innanzitutto partire da un presupposto ovvero dalla stretta correlazione tra oralità e scrittura nell'ambito della diplomazia quattrocentesca e non solo non si trattava infatti di due modalità in opposizione polarizzate come siamo abituati noi oggi ad intenderle bensì come di modalità complementari che infatti erano solidali in quanto condividevano innanzitutto un background quello appunto di avere una tradizione culturale in comune e quindi anche dei modelli di riferimento molto simili parliamo delle formule dell'Ars Dictandi che dal 200 in poi si erano come dire proposte di essere alla base sia dell'oratoria sia dell'epistolografia e del resto le stesse modalità in cui avveniva l'atto della negoziazione provava ciò come sottolinea molto bene Stefan Pequignone i suoi studi quindi appunto l'atto della negoziazione lo scrivere il parlare erano parte di un unico processo e circolo e molto banalmente le somiglianze tra oralità e scrittura passano anche attraverso la presenza di un io quindi di una scrittura egocentrica da un punto di vista linguistico di un io che necessita di un interlocutore questo tanto in una lettera quanto in una conversazione orale e molti tratti linguistici che si riscontrano nelle lettere sono anche propri dell'espressione parlata a partire da alcuni costrutti marcati con dislocazioni in funzioni tematizzanti della frase che si riscontrano anche in questo tipo di lettere per quanto riguarda le paremie la prima che è emersa è questa se le serrano rose fioriranno ovvero il corrispondente del nostro se saranno rose fioriranno la lettera in questione è quella scritta da Francesco Maletta Galeazzo Maria Sforza e ovviamente non posso fare a meno di contestualizzarla vengono infatti qui riportate le parole di un certo Fabrizio della Leonessa che si dice essere amico intimo di Maletta Fabrizio della Leonessa a sua volta riporta le parole del conte di Fondi onorato Gaetani e viene detto che secondo appunto il conte di Fondi le controversie tra Giangaleaz tra appunto Ghisforza e Re di Napoli sono state come dire causate hanno causato poi la presa di Cipro e quindi si dice anche convinto che se le cose sono destinate ad andare per il verso giusto lo faranno perché probabilmente potranno ancora avere un rimedio potranno appunto avere una soluzione come dice lui prenderanno buona sesto e buona forma quindi appunto si potrà rimediare è un proverbo ipotattico in questo caso viene utilizzato non in un discorso riportato ma come conclusione dell'ambasciatore stesso che sta cercando di sintetizzare con un'espressione icastica le paremie infatti i proverbi sono espressioni brachilogiche convenzionali polisemiche ed allogogiche quindi rimandano sempre ad altro da sé su un piano traslato e sta cercando di sintetizzare quanto è stato detto da Fabrizio della Leonessa e dal Conte di Fondi mi sembrava interessante riportare un parallelismo che ho riscontrato con il primo volume dei dispacci sforzeschi di Napoli si trova infatti un proverbio assimilabile a se saranno rose e fioriranno seguendo la suggestione del dizionario dei proverbi che lo accomuna questo proverbio a un altro cioè fare le ragioni senza l'oste è controproduttivo perché si faranno due volte e considerato che il primo volume racchiudeva la corrispondenza almeno parzialmente tra il 1444 e il 1458 mi sembrava interessante riportarlo per evidenziare come in realtà da decenni ma dall'alba dei tempi si potrebbe dire questi proverbi mutatis mutandis continuino ad essere utilizzati la seconda parimia è i problemi si aggiustano strada facendo per via si acconsa soma questo è forse l'esempio più come dire chiaro per cominciare ad identificare una sorta di funzione che i proverbi avevano in queste lettere la lettera in questione infatti è scritta da Maletta a Galeazzo Maria Sforza e qui Alfonso Duca di Calabria parla lo dice esplicitamente a nome del padre di Ferrante e sta cercando di portare Galeazzo Maria Sforza dalla sua parte cioè gli sta dicendo mio padre vuole a tutti i costi che la Lega si impegni affinché Venezia non si impadronisca di Cipro perché sarebbe un danno immenso e per fare questo rassicura Galeazzo Maria gli sta dicendo guarda non preoccuparti perché se anche le cose dovessero peggiorare se anche le ambascerie non dovessero avere buon fine se anche si venisse alle armi tu avresti comunque la possibilità di trarre vantaggio dalla situazione ne otterresti soltanto benefici e questa cosa insomma che Galeazzo Maria otterrà soltanto benefici da questa situazione viene ripetuta molte volte nella lettera e per rafforzare quello che dice gli dice guarda non preoccuparti perché se le cose vanno male i problemi comunque si aggiusteranno strada facendo e è interessante anche che per come dire rafforzare questo proverbio ne faccio una sorta di lo faccio con una sorta di esempio di vita vissuta cioè dice quando io sono stato mandato da mio padre a combattere nella guerra di Romagna capitò più o meno la stessa cosa ovvero che le cose dovevano andare in un certo modo poi così non è stato ma tutto sommato hanno preso il loro corso e quindi con un esempio di vita vissuta come dire Alfonso spiega ancora meglio questo proverbio che è un proverbio monofrastico in questo caso è inserito in un discorso riportato quello che Maletta riporta e che è pronunciato da Alfonso Duca di Calabria e ho riportato poi a scopo come dire anche di curiosità alcune varianti del proverbio perché ogni proverbio ha tantissime varianti geolinguistiche che il sonoro dei proverbi riporta ancora andando avanti il diavolo non è così brutto come lo si dipinge questo è un proverbio che compare soltanto in due minute e non nella lettera originale scritta da Galeazzo Maria Sforza a Francesco Maletta sono parole riportate da Maletta le parole sono di Galeazzo Maria Sforza che sta tranquillizzando sua sorella Ippolita Maria Sforza dicendole non preoccuparti stai di buon animo perché le cose non sono mai così tragiche come si possa pensare lo sta dicendo in un contesto il contesto è sempre fondamentale per capire appunto questo tipo di espressioni e si parla infatti di come siano state apprese delle critiche fatte dalla Corte Aragonese alla Corte Sforzesca sulle presunte scarse capacità governative e politiche di Galeazzo Maria Sforza che comunque si dice convinto di voler continuare i rapporti con la Corte Aragonese e appunto di non causare a re ulteriori dispiaceri ho riportato anche qui come dire la conferma che si tratti di un'espressione parimiaca basandomi su alcuni dizionari storici della lingua e che anche in questo caso il proverbio è di Galeazzo Maria Sforza e lo utilizza per sintetizzare una rassicurazione che fa a sua sorella un'altra espressione che mi sembrava interessante è questa una casa si desfa più presto che non la si fa di nuovo ovvero è più facile distruggere che costruire anche qui è Galeazzo Maria Sforza che scrive a Maletta e il contesto ancora una volta ci viene in aiuto Galeazzo Maria Sforza parla della questione della bastita del panaro più volte citata durante la giornata di oggi e sta dicendo benché a Milano si usi dire che è più facile distruggere che costruire non è proprio questo il caso perché i bolognesi ci hanno donato la bastita del panaro di loro spontanea volontà quindi non c'è stato da distruggere niente sostanzialmente ma la costruzione è stata gratuita nel senso che la bastita ci è stata praticamente regalata appunto da mano dei bolognesi e usa tra l'altro anche un'altra locuzione si sono buttati tra le nostre braccia proprio a dire che come dire la cosa è stata più facile del previsto il proverbio è introdotto insomma si trova all'interno di un discorso riportato in un accumulazio di frasi dichiarative caratteristica questa delle coine cancelleresche dall'impasto linguistico estremamente complesso per la giusta posizione di costrutti frasi dichiarative ed altro e la cosa interessante è che in questo caso il proverbio è riconosciuto proprio come tale perché viene introdotto da si dice comunemente come si dice comunemente a Milano ancora piuttosto apto a perdere il certo che recuperare l'incerto ovvero lasciare il certo per l'incerto questo proverbio ricorre in una lettera scritta da Maletta a Galeazzo Maria Sforza e in questo caso come dire è ferrante ad essere adirato nei confronti di Galeazzo Maria Sforza e dice a un certo punto della lettera se il duca di Milano non cambia vita et costumi dice cioè se non cambia il suo atteggiamento finirà anche per perdere ciò che ha di certo quindi presumiamo gli alleati e l'alleanza con la Liga e quindi vuole ottenere di più ma in realtà finirà per perdere solamente infatti Ferrante adirato per il prestito in primis che Galeazzo Maria Sforza ha fatto ai veneziani per l'impresa di Cipro e quindi in questo caso è un'espressione di Ferrante che viene riportata con cui sostanzialmente si esprime uno sdegno da parte appunto del sovrano questo invece è un ho preferito riportare questa espressione perché in realtà non è un proverbio ma all'inizio mi sembrava tale e quindi mi sembrava doveroso riportarlo per come dire a modi exemplum per testimoniare diciamo così quanto spesso queste espressioni siano difficili da riconoscere da un punto di vista infatti strettamente linguistico c'è un'espressione con una sorta di isocolon quindi perfettamente simmetrica con due parti che si specchiano la logica del costrutto si basa su un costrutto retorico logico binario perché è chiaramente diviso in due quindi potremmo essere portati a pensare che possa trattarsi di una paremia in realtà però il contesto ci viene in aiuto testimonianza di quanto appunto sia fondamentale molto spesso per capire questo tipo di espressioni si sta infatti riferendo di quanto di quando venga da parte del duca di Urbino effettuato un prestito a Eppolita Maria Sforza da parte di un tale Giovanni Battista Bentivoglio il quale viene detto nella lettera non volse né impegno né segno cioè non volle da parte della duchessa né da parte sua un bene da impegnare né una sorta di carta scritta per assicurarsi poi la garanzia della restituzione del prestito effettuato mi sembrava interessante per far capire appunto l'importanza del contesto per determinare questo tipo di espressioni proseguo la carrellata con un modo di dire non poter cavare chiodo l'espressione che ricorre in una lettera di Maletta a Galeazzo Maria Sforza e si parla di una lettera di cui tra l'altro ha parlato già la collega di questo gentiluomo castigliano che è giunto a Napoli vorrebbe avere indietro 1300 ducati che ha prestato a riferrante a scopi bellici non riesce però ad averli indietro in alcun modo e quindi se Biasme lamenta fino al cielo cioè si lamenta tantissimo perché non riesce a cavare un ragno dal buco infine passo alle locuzioni con una che diciamo è aperta a interpretazioni andare vestito di rosato qui siamo in una lettera scritta da Cicinello a Ferrante d'Aragona e Antonio Cicinello riporta a Ferrante il proposito di Galeazzo Maria Sforza di volersi recare a Roma in occasione della Quaresima e che in compagnia insomma del suo seguito e anche dello stesso Cicinello vuole che ci si vesta appunto di rosato ora con questa espressione non è diciamo chiarissimo a cosa alluda potremmo fare delle ipotesi quella che sembra essere più convincente è quella in qualche modo supportata dai dizionari storici che ci propongono una definizione di rosato come un panno di colore rosa o un mantello utilizzato in particolari occasioni di cerimonia ma in realtà potrebbe indicare semplicemente un sinonimo di rosso quindi semplicemente appunto andare vestito di rosso con un mantello evidentemente di quel colore che si usava evidentemente in quel periodo per quella ricorrenza religiosa molto meno probabile l'ipotesi che si alluda ad una sorta di dignità cardinalizia perché è il cremisi il colore utilizzato in generale per questo tipo di ruolo forse si potrebbe ipotizzare un riferimento ma andremmo su un piano un po' più traslato del colorito del volto ipotesi che però non sembra plausibile perché il contesto porterebbe ad escludere un uso traslato dell'espressione cioè vorrebbe dire andare a Roma vestiti di pudicizia cioè vestiti di umiltà ma sarebbe da escludere una suggestione ci proviene dal GDL di battaglia che con rosato intende anche il rosario dato che qui si fa riferimento all'onestà di un voto fatto potremmo immaginare che questa compagnia portasse dei rosari ma come dire per rispettare appunto questo voto fatto ma la prima ipotesi resta sicuramente la più convincente per quanto il termine rosato porti con sé un non so che di indefinito mentre al contrario molte altre sono i riferimenti a tessuti come il damaschino e il morello in queste lettere per il quale è molto più semplice trovare una spiegazione e dare una sorta di descrizione passo rapidamente diciamo alla lettura altre locuzioni trovate per questione di tempo ovviamente non le analizzo ma servono a dare un'idea appunto di quanto ricche queste lettere siano di questo tipo di espressioni come fermare i piedi sulle staffe fermarsi ancora prima di cominciare qualcosa passare sui piedi di qualcuno non tenere in alcun conto qualcuno oppure spogliare fino a delle camise spogliare fino all'osso e ancora buttati nelle braze nostre affidarsi completamente a qualcuno lamentarsi fino al cielo lamentarsi in modo esagerato e ancora stare con gli occhi aperti stare vigili in guardia e vedersi un'onte sulla fronte che vuol dire appunto subire un affronto infine come dire ho voluto riportare una sentenza a scopo in qualche modo dimostrativo si tratta di una citazione dell'Enaide Virgiliana siamo in una lettera scritta da Maletta Galeazzo Maria Sforza e si riporta qui la notizia comunicata a Ippolita Maria Sforza del proposito di Galeazzo Maria Sforza di incoronare il re di Dacia e a questo proposito Ippolita comunica tale notizia anche al suo consorte ad Alfonso e qui viene detto che Maletta commentando le reazioni del Duca di Calabria dice che sembrava sereno come dire all'avere recepito questa notizia ma chissà che in realtà dentro di sé non ce l'asse qualcosa di diverso e mi sembrava significativo questo esempio perché in qualche modo se questa come sembra essere dalla lettera è una conclusione un'aggiunta del Maletta capiamo anche come spesso gli ambasciatori si lasciassero andare tra virgolette a questo tipo di commenti qui in qualche modo lo sta quasi mettendo in guardia Galeazzo Maria Sforza sta dicendo guarda in realtà ha dimostrato una cosa ma chissà che poi insomma stai attento a delle apparenze ingannevoli per cui volendo provare a trarre delle conclusioni per quanto si tratti di un terreno parzialmente inesplorato perché non esistono attualmente delle raccolte onnicomprensive delle espressioni proverbiali all'interno delle corrispondenze diplomatiche potremmo dire che queste lettere avevano chiaramente una funzione informativa primaria ovvero come dire lo scopo di informare di riassumere eventi colloqui ma anche una funzione argomentativa cioè la funzione appunto di persuadere l'interlocutore mentre quando parla l'ambasciatore la funzione del discorso può essere tanto riassuntiva quanto persuasiva nel caso dei discorsi riportati come abbiamo visto nel caso delle parole di Ferrante di Galazzo Maria Sforza la funzione è chiaramente persuasiva per cui potremmo ipotizzare che la presenza appunto dei proverbi in questo tipo di contesto sia appunto una spia del passaggio da una funzione veramente informativa a una funzione invece persuasiva se così è vuol dire che in qualche modo a partire da una micro espressione linguistica che appunto il proverbo in senso stretto cambia anche parzialmente la funzione della lettera stessa e potremmo dire che appunto in questo caso la linguistica ci aiuta non solo a vedere leggere questo tipo di lettere da un altro punto di vista ancora tutto da esplorare ma anche in qualche modo a farci capire poi la funzione stessa delle lettere che lungi dall'essere semplicemente un riassunto di fatti avvenuti avevano anche molto altro come appunto questa capacità persuasiva che passava appunto anche attraverso i proverbi grazie per l'ascolto grazie a Melchionno per questa prima di tutto uno spoglio molto accurato di tutti i proverbi i modi di dire locuzioni e questa interessante sentenza che mostra anche la cultura dell'ambasciatore ma soprattutto anche per questa conclusione che non si è trattato solamente di un lavoro di sistematica lettura dei testi ma anche di una ipotesi veramente interessante che poi vedremo come sarà commentata da Francesco Montori cioè come per riassumere questa utilizzare utilizzare il proverbio come una spia del passaggio all'argomentazione e soprattutto alla persuasione in qualche modo anche una spia forse inconsapevole da parte dello scrivente e questo ci aiuterebbe a distinguere i livelli comunicativi dei dispacci e l'uso diverso del repertorio della cassetta degli attrezzi diciamo così che ha a disposizione l'ambasciatore quando scrive per cogliere tutti gli scarti tutte le nuance della sua posizione e della sua comunicazione quindi grazie a Chiara Melchionno passiamo a Leo Donnarumma che ci parla delle forme della cortesia l'importanza del dono nelle corrispondenze diplomatiche tra Napoli e Milano grazie professore se potessimo tutti alzarci e andare a Milano nella lettera 182 conservata presso l'archivio di Stato all'interno del fondo sforzesco potenze estere Napoli nella cartella 225 potremmo leggere Francesco per Florio nostro cavallaro mandiamo una delle nostre collane a donare alla magnifica contessa mogliere del messer conte camerlengo pertanto drizzarai esso cavallaro ad presentare il dono da parte nostra secondo te parerà essere più conveniente il dono in questione consistente in una collana era indirizzato da Galeazzo Maria Sforza ad Antonella D'Aquino moglie del camerlengo regio Doninnigo D'Avalos la lettera in questo caso una minuta ci permette così di introdurre la questione assai complessa di un ulteriore aspetto della comunicazione politica le forme di cortesia e in particolar modo i doni studiate appunto mediante l'utilizzo della corrispondenza diplomatica tra Napoli e Milano negli anni settanta del 1400 poco dopo ritroviamo nello stesso fascio di lettere un'altra notizia stavolta proveniente da Napoli Florio cavallaro de vostra celsitudine è giunto qua con la collana che quella manda a donare alla contessa camerlinga la quale contessa è a Dovairano terra sua lontana di qui trenta miglia domani manderò un mio messo insieme col ditto Florio dalla ditta contessa l'ambasciatore Maletta che risponde al duca il 27 dicembre 1473 registrava efficacemente dopo soli dieci giorni l'arrivo del dono da Milano e contemporaneamente comunicava le prossime mosse da farsi questa pratica sociale fortemente presente fin anche nella società contemporanea ritrova le sue radici in antichi rituali che sono stati ben analizzati da un celebre antropologo francese Marcel Mousse nel suo celebre saggio sul dono le sue ricerche tuttavia prendevano in là dagli studi di Bronis Dalao Marinoski e Franz Boas che avevano rispettivamente portato alla luce il Kula e il Potlac due cerimonie rituali legate al dono ancora oggi in uso presso le rispettive tribù e studiate dai due antropologi agli inizi del XX secolo il primo rito che prevedeva lo scambio di collanine e braccialetti tra persone anche molto distanti tra loro ha dato l'opportunità all'antropologo francese di sviluppare una teoria fondamentale per l'antropologia che vede il dono come un'istituzione sociale non volontaria ma obbligatoria nel caso del Potlac invece si veniva a configurare presso i nativi americani una vera e propria economia del dono in essa il bene o servizio era capace di soddisfare un dato fa bisogno della società la successiva analisi comparativa portata avanti da Mosso quindi faceva del dono un fatto sociale totale un aspetto culturale cioè che è in connessione con tutti gli altri e che di conseguenza consente di studiare tutti i diversi aspetti culturali di una determinata società in effetti se noi andassimo a ritroso nel tempo all'interno della cartella 224 ritroveremo una lettera inviata da Maletta a Galeazzo Maria Sforza ho fatto consigliare a De Venturino il cavallo del Conte Camerlingo al quale avendo io proferto debito pagamento ha risposto che grandissimo pagamento gli sarà quando l'intende il cavallo sia piazzuto e satisfatto a vostra sublimità a cui continuamente mi raccomando Exenapolis die 22 settembre 22 settembre 1473 questa lettera ci testimonia quindi l'inizio della cerimonia del dono che possiamo articolare secondo quanto afferma anche Mussi in tre passaggi fondamentali dare ricevere significa cioè che l'oggetto del dono deve essere accettato e ricambiare lo scambio di doni che abbiamo finora tracciato non si conclude qui perché il primo gennaio 1474 parte da Napoli per Milano un'altra lettera stavolta voluta da una donna illustrissime princepset eccellentissime domine frate onorandissime avemo visto lo collaro d'oro mandato a donare vostra eccellenza alla magnifica contessa camerlinga la quale è stata sola contentezza e consolazione che avemo avuto in questo capodanno e prosegue la lettera appresso per il singolare amore portiamo al signor conte e alla contessa per li quali ne è piaciuto più tal presente che se decimila volte lo avessimo ricevuto noi questa lunga lettera qui riportata è la risposta inviata dalla cordialissima sorella Ippolita Maria dell'Aragona vice comes Ducissa Calabria così è riportato sul verso della Pergaena ma più comunemente noi la conosciamo ormai come Ippolita Maria Sforza al fratello il duca di Milano è interessante evidenziare che la contessa scrive è piaciuto più tale regalo che se lo avessimo ricevuto noi diecimila volte la contessa infatti ci testimonia un ulteriore aspetto che sembra essere assai rilevante per la società medievale la gratitudine e gli atti di cortesia da un'indagine che ho compiuto personalmente sulle cartelle 220 a 228 corrispondenti agli anni 1470 1476 ho ricavato alcuni dati rilevanti per vari motivi come abbiamo potuto anche vedere in questo convegno le relazioni tra Napoli e Milano nell'anno 1473 scusate 1474 erano un po' tese anche a causa del comportamento ambiguo di Galeazzo Maria Sforza nei confronti della corte napoletana prima di poter procedere però è necessario soffermarsi ulteriormente sul significato attuale del dono in un saggio del sociologo francese L'Ancaillier e del sociologo canadese Jacques Godbout lo spirito del dono si dà quella che forse per me è la più eccellente definizione del concetto di dono definiamo dono ogni prestazione di beni o servizi effettuata senza garanzia di restituzione al fine di creare alimentare o ricreare il legame sociale tra le persone per questo motivo sulla base di quanto ho appena detto mi è sembrato opportuno dividere all'interno della schedatura i doni in due grandi categorie i beni materiali da una parte e gli atti di cortesia dall'altra in questa seconda categoria rientro anche ad esempio i medici che venivano inviati tra le due corti le raccomandazioni le richieste fatte al re o al duca che possono essere desunte dai dispacci per motivi di tempo non potrò descrivere tutte le cartelle e ho scelto quindi due campioni esemplari partendo dalla cartella 225 la cartella in oggetto di studio in cui sono contenute 336 lettere potete vedere alle mie spalle una tabella esplicativa si evidenzia su tutta la cartella un totale di otto lettere in cui si parla di un dono materiale diversamente gli atti di cortesia rappresentano un numero più consistente ovvero 40 lettere circa il 13% sul totale complessivo delle emissive registrate all'interno della cartella il dono più scambiato tra le due corti sono i cavalli seguono i ducati a pari numero ci sono i falconi ed infine alla stessa percentuale cani gioielli e altri doni di cui non è stato possibile rintracciare la consistenza non ci sorprende scoprire quindi che i cavalli merci assai rara e di cui il regno di Napoli era grande allevatore come dimostra anche l'interesse dello stesso Ferdinando I per questi animali fossero un dono assai prezioso e molto richiesto dal Duca di Milano tale dono ricevuto a Milano nei primi giorni del novembre 1473 è largamente apprezzato e si fanno ampie profusioni di cortesia Alexandro nostro camerario ritornò da noi in pavia con gli cavalli e cani che la maestà del re ne ha mandato a donare li quali per essere belli e buoni ne sono piaciuti e avemole avuti molto grati e accetti e il perché volevo che tu ringrazi in nome nostro alla prefata maestà e continua la lettera dicendo volemola preghi a domandare qua uno degli suoi per vedere se gli è cosa alcuna che gli paresse che la maestà sua fosse grata e il Duca di Milano conclude la lettera approfondendo ancora parole di riconoscenza e rispetto verso il re di Napoli come afferma anche Marco Nell'introduzione del saggio sul dono di Marcel Mousse il dono non è mai gratuito del resto lo stesso Mousse lo aveva messo in evidenza il dono non è una prestazione puramente gratuita e riporto le sue parole né uno scambio a fine di lucro ma è un ibrido e chi dona si attende sempre un controdono tali controdoni e relativi ringraziamenti rientrano ancora una volta nella prima categoria di schedatura per quanto riguarda gli atti di cortesia invece le lettere descrivono principalmente raccomandazioni per una determinata carica riverenze verso particolari ruoli come nel caso della visita di Federico da Montefeltro a Napoli di cui abbiamo avuto modo di parlare in cui Galeazzo Maria Sforza ordina con il ripetersi di questo verbo dispositivo volimo all'oratore milanese di onorarlo e di trascorrere quanto più tempo possibile in sua compagnia volimo quando intenderai che il venghi li vada incontro e li faci continuamente compagnia vi è anche il caso come riportato da Maletta che scrive da Napoli il 16 giugno 1474 di quella che potremmo definire una scortesia domenica prossima passata la maestà del re invitò alla sua messa tutti questi ambassatori eccetto che me non sono rari come vi dicevo i casi in cui si raccomanda una persona e ne viene fuori un commomente spaccato di vita quotidiana come nel caso del maestro Baldo che voleva ritornare a Milano per assistere al matrimonio della figlia non tacerò io che in queste parte dicto magistro Baldo e trombetta e taraldo della laude e gloria vostra implora la grazia e tauxilio vostro per maritare la figliola in Mediolano e perché la domanda sua non mi pare inonesta nella lina della sua antica servitù e devozione verso vostra illustrissima signoria altre volte invece i dispacci testimoniano la volontà del mittente di ottenere un favore personale nell'ambito di una più complessa cornice di politica internazionale come quando il referrante scrive al duca milanese illustrissime ducs frater per nostre carissime lo magnifico mister guiglielmo joan de san clement ambasciatore della maestà del serenissimo ed eccellentissimo signore re di aragona nostro zio e padre osservantissimo è stato qua a noi e continua pregamo vostra eccellenza che per rispetto e contemplazione nostra lo vogliate avere ben commendato e fatelo ben trattare come vostra eccellenza solefare verso uomini nostri e quelli che noi li commendiamo la missiva ci riporta quindi la raccomandazione che in qualche modo il re di napoli fa nei confronti dell'ambasciatore guiglielmo in clement del re del re giovanni d'arragona affinché nel suo viaggio di ritorno in spagna transitando all'interno dei domini milanesi possa essere accolto e rispettato ritornando all'originaria vicenda dei cavalli e della collana è interessante analizzare anche la cartella 224 è da lì infatti che ha avuto inizio tutta la vicenda del gioiello donato da Galeazzo Maria alla contessa d'Aquino il principio di tutto sia nella lettera numero 177 alexandro da Cotignola gionse qua all'ì 22 del mese domandì al re uno pare dei libreri secondo me scrive vostra sublimità e continua la pregava volessi mettere la mano in buono loco e mandare due cavalli a vostra signoria per ditto Alessandro il duca di Milano quindi fa esplicita richiesta tramite Alessandro da Cotignola di un paio di levrieri per la caccia e due cavalli per il duca lo stesso latore della missiva dovrà riportare tutti gli animali a Milano il re ferrante ancora una volta da esperto di cavallerizia consente ad aiutare l'oratore nella ricerca di due esemplari da donare al duca e l'ambasciatore riporta prontamente la notizia al suo signore il sovrano napoletano si mette di buona lena alla ricerca dell'esemplare adatto ed è di nuovo il portavoce sforzesco ad informare il suo signore di aver trovato i levrieri per la caccia alle lepri e il re ci ha dato uno pare dei cani livreri turchi maschio e femmina che hanno aere dei buoni a Cignancora di volerci dare uno pare dei buoni cavalli ha voluto parlare due volte ad Alessandro da solo la vicenda prosegue poi alla lettera successiva alla successiva lettera 211 la prefata maestà come avvisai questi di vostra eccellenza di uno pare dell'ivreria ad Alessandro volentera da poi ha fatto mostrare tutte le stalle degli suoi cavalli qui in Napoli da Don Colla Turaldo cavallerezzo maiole e molto amato e favorito dal re e segue ancora la lettera è molto lunga nella parte successiva leggiamo Venturino da Cremona vostro ragazzo sono otto giorni che viene qua dal quale intendendo il desiderio a vostra sublimità di avere uno cavallo al modo suo e io non pensando né studiando mai in altro che da satisfare alla volontà vostra trovandomi al cospetto di Madonna vostra sorella dove era ancora il conte Camerlingo quale io so è fornito dei simili buoni cavalli io venne studiosamente in ragionamento di questo cavallo che cercava per vostra signoria ditto conte disse immediatamente averne uno pare quale me faria vedere e quali piacendone le disponessi come decosa dei vostri eccellenzi questo lungo dispaccio ci mostra quindi la scaltrezza dell'oratore sforzesco nel compiacere il suo signore e essendo venuto a sapere dal tale Venturino da Cremona della volontà di il duca di avere un nuovo cavallo personale cercava di accontentarlo quanto prima così in occasione di un incontro tra Ippolita Maria Sforza il conte Innigo Davalos Gran Camerlingo il suddetto Maletta quest'ultimo chiedeva al conte di procurargli un cavallo per il duca il conte poi in qualche modo obbligato verso un'autorità superiore non esitava a mettere a disposizione dell'ambasciatore i suoi cavalli infine il dono per il duca di Milano viene fatto recapitare tramite il vostro ragazzo Venturino da Cremona la vicenda trova il suo epilogo nella lettera che abbiamo già letto prima del 22 settembre 1473 ma che ci fornisce ulteriori interessanti notizie illustrissimo signore mio ho fatto l'ambassata dei vostri eccellenzi alla maestà del re del zannetto che mi scrive vostra signoria ha risposto a essere contento di buona voglia di darlo così lo assignerà Alessandro che lo menerà insieme con i due cavalli che il manda a vostra eccellenza quale ha detto non manderà se non serranno buoni credo che Alessandro partirà fra 4 di bene spedito di ogni cosa ho fatto consegnare a Venturino il cavallo del conte camerlingo al quale avendo io proferto debito pagamento ha risposto che grandissimo pagamento gli sarà quando l'intenda che il cavallo sia presuto e satisfatto a vostra sublimità di cui abbiamo detto già prima ancora una volta è importante notare la cura e l'accortezza delle parole usate dal re e fedelmente riportate dall'oratore non li manderà se non saranno buoni oltre al valore puramente materiale quindi del dono si aggiunge l'importanza di dimostrare la qualità della propria scuderia il re è sempre generoso con i suoi alleati e con i suoi familiari è interessante notare inoltre che nelle rettere si fa riferimento a un cavallo zanneto probabilmente di importazione spagnola o un ginetto come lo chiameremo noi oggi piccolo e snello utilizzato già dai combattenti al servizio dell'antico califato di Granada per azioni rapide e violente assai diverso dalle robuste cavalcature italiane che dovevano sopportare il peso degli uomini d'arme per quanto riguarda alcuni dati statistici la cartella 224 non si presenta veramente colma di toni sono solamente dieci in totale ma ne abbiamo notizie attraverso più lettere qui ho riportato un piccolo grafico esplicativo in cui si vede appunto la percentuale dei doni scambiati tra le notizie più ricorrenti all'interno della cartella vi sono quindi gli scambi di cavalli poi i riferimenti ai doni di cui purtroppo non si riesce ad esumere la consistenza e infine a pari percentuali i doni indicati ma di differente valore e per ultimo i levrieri per ciò che concerne invece gli atti di cortesia essi rappresentano solo 11 lettere sulle 233 totali circa il 5% del numero complessivo dei dispacci contenuti all'interno della cartella in definitiva e solo per questa cartella la percentuale totale di atti e doni di cortesia raggiunge solo il 10% ma questo dato deve essere interpretato anche alla luce dell'elevato numero di dispacci contenuti nella cartella e dal fatto che non ho potuto controllare tutta la documentazione diplomatica per quanto riguarda gli atti di cortesia mi è sembrato opportuno evidenziare l'amore che traspare dall'analisi delle lettere e che legava la duchessa consorte di Calabria e Polita Maria Sforza al fratello Gian Galeazzo come diceva anche la professoressa Cengarle illustrissime Prince eccellentissime domine frater mie onorandissime Niccolò De Maestro Zoampietro Ragamatore ne ha servito in modo che non solo a bocca ma col pensiero non avessimo saputo né immaginato meglio sicché ringraziamo infinitamente la vostra eccellenza che se degni a mandarlo e farne questo singolarissimo piacere per questo non può crescere l'obbligazione avemo di vostra signoria alle quali siamo obbligati per tanti suoi benefici passati con la roba e il corpo e l'anima e la vita e la persona e a quella umilmente ne raccomandiamo il rapporto che traspare da queste lettere tra i due fratelli è veramente stretto anche grazie ai numerosi atti di cortesia che il duca costantemente fa verso la sorella così come traspare anche da un'altra lettera appartenente questa volta alla cartella 223 in cui Francesco Pietrasanta scrive ho visitato la illustrissima madonna duchessa vostra sorella e continua il Pietrasanta che in quegli anni ricopriva la carica di cameriere ducale descrivendo la commozione della duchessa alla notizia delle tribolazioni del fratello gli cascavano le lacrime quasi come se ella non avesse avuto altro dio al mondo che vostra censitudine in modo che in lei vostra censitudine può ben dire essere vero il proverbio che dice non ha fidele amico chi non ha sorella viva atti di cortesia e doni che la sorella ricambia ben volentieri come quando nella stessa cartella maletta scrive da Napoli a Milano postec la prefata madonna manda vostra sublimità degli frutti di qua secondo vedrà vostra signoria per le mie lettere e io gli mando duecento pomeranze dolce poteva essere dunque uno tra i primi raccolti di arance essendo la lettera datata 30 dicembre 1472 e si pensava di inviarle già queste pomeranze in omaggio al duca di Milano la schedatura ancora non del tutto ultimata ma che porterò a termine a breve come spero sarà pubblicata raccoglierà quindi questo preziosissimo corpus di lettere in conclusione credo sia stato possibile nonostante la complessità della comunicazione politica del quindicesimo secolo rintracciare un sottile filo russo i doni da quanto detto finora si configuravano come veri e propri enzimi delle relazioni tra Napoli e Milano poiché anche durante un'aspra crisi diplomatica come quella che si verificava alla fine degli anni settanta del quattrocento anche forse a causa dell'avvicinamento alle posizioni francesi del duca di Milano dell'aver vostra eccellenza vestito abito francese per usare le parole di Maletta gli omaggi sono sempre ben testimoniati laddove la diplomazia i rapporti potevano iniziare a erodersi si inviava attraverso il dono un messaggio che assumeva un significato ben più profondo del puro valore materiale andava configurandosi realmente almeno da quanto traspare dalla documentazione analizzata quel cosiddetto terzo paradigma teorizzato da Cagliere in cui il dono sussumeva un ulteriore significato la capacità di creare e riprodurre relazioni sociali tale abilità che è stata ampiamente studiata in antropologia è il cosiddetto valore di legame in cui la connessione in sé tra le due parti acquisisce un'importanza maggiore del dono stesso se anche le relazioni quindi cambiavano lessico o mutavano i codici di comunicazione l'omaggio politico rappresentava in ogni caso il segnale che la strada del dialogo e della comprensione rimaneva costantemente aperta grazie anche in questo caso come nel precedente lo spoglio accurato delle corrispondenze trova un'interpretazione finale una conclusione sul valore di legame che crea il dono più che enzimi sono proprio come ha dimostrato Donna Rum atti comunicativi atti performativi importantissimi darei subito la parola a Francesco Montuori mentre arriva faccio una battuta semplice quasi tutti si riferiscono a queste cartelle come se fossero delle entità è il casuale accorpamento naturalmente delle lettere in ordine cronologico ma il fatto che si riferiscano tutti è un piccolo segnale di quanto tempo hanno passato con questa cartella sul loro computer a leggere un numero notevole di lettere che la gran parte di loro non era in grado di leggere all'inizio del laboratorio e che invece adesso gestiscono benissimo prego Francesco si grazie mi sembra che il titolo della relazione di Donna Rum dia un po' il senso di tutto quello che ho sentito stamattina purtroppo non ho sentito ieri perché è proprio la cortesia che caratterizza questa forma di comunicazione diplomatica di cui il dono diciamo così è una manifestazione una delle tante manifestazioni possibili ma direi che sulla cortesia si fonda questa modalità di comunicazione della negoziazione diplomatica e quindi delle sue manifestazioni scritte e orali che noi conosciamo ci sono diciamo gli studi di pragmatica linguistica cioè di quella disciplina linguistica che studia la diciamo gli atti linguistici nella concreta interazione tra le persone calcano molto e trattano molto il tema della cortesia linguistica è recentissima una monografia che studia la cortesia nella corrispondenze ottocentesche una monografia in inglese proprio pubblicata nel 2019 che cosa consiste la cortesia consiste sul fatto che qualsiasi tipo di comunicazione si fonda su un aspetto diciamo razionale e su quella che viene definita la faccia l'aspetto razionale è quello a cui faceva riferimento prima Francesco Senatore quando si comunica con una persona quando si conversa per iscritto nel parlato con una persona bisogna rispettare tutta una serie di regole implicite nella conversazione sono le celeberrime massime conversazionali che fisso Paul Grice in un lavoro in un articolo di ormai 50 anni fa ma molto noto se non altro perché entra anche nei manuali di grammatica scolastica quindi per esempio non bisogna per forza dire tutte le cose durante una conversazione se no finiamo con l'essere noiosi e l'ascoltatore non ci non ci ascolta più oppure bisogna essere pertinenti non si può cambiare improvvisamente discorso parlare d'altro senza dare almeno un segnale e così via sono tutte quelle massime che servono perché una conversazione non sia ambigua non sia equivoca ma sia efficace d'altra parte poi in una conversazione bisogna anche pensare agli aspetti diciamo così emotivi alle soddisfazioni dell'interlocutore e l'interlocutore non innanzitutto gradisce di essere apprezzato e tutti gli apprezzamenti che facciamo ai giovani che parlano naturalmente li facciamo non solo perché pensiamo veramente che siano da fare ma anche perché sappiamo che loro li apprezzano d'altra parte qualsiasi interlocutore non vuole essere costritto a fare cose che non vuole fare e questi sono i due aspetti che appunto gli studiosi pragmatiche chiamano faccia che sono due aspetti fondamentali per regolare la cortesia nella conversazione e la cortesia conosce delle strategie è celebre una monografia del 1987 che cercava degli universali nelle strategie discorsive relative alla cortesia e quindi studiava elementi di cortesia diciamo in tutte le lingue in tutte le comunità di parlanti ma naturalmente quindi ci sono diverse strategie se io voglio fare in modo che la persona recepita il mio interlocutore recepisca dei segnali di apprezzamento gli farò dei complimenti quindi userò strategie come dire empatiche nei suoi confronti se invece voglio che il mio interlocutore non si senta costretto a fare qualcosa io quando li scrivo quando li parlo cercherò di essere elusivo di essere di aumentare gli impliciti oppure di mitigare come dicono i linguisti la forza elocutiva del mio discorso che vuol dire che se io voglio comandare una cosa a qualcuno cercherò di dirglielo in un modo che lui non recepisca quello come un ordine ma lo recepisca come un consiglio e così via tutte queste regole che sono regole della comunicazione che noi in gran parte poi impariamo con l'esperienza e che raffiniamo con lo studio sono tutte regole che sono sempre attive in queste lettere del resto tutta quella ira di Ferrante che abbiamo visto prima certamente quella non è una vera ira non è quell'ira che i giuristi chiamavano primi motus non in nostra potestate per dire che se qualcuno si arrabbiava e ammazzava aveva un momento di diciamo così in cui non era consapevole e presente a se stesso quella è tutta una ira funzionale a quello che diceva prima Francesco non c'è più il rapporto di fiducia nelle relazioni tra Napoli e Milano e se non c'è il rapporto di fiducia qualsiasi segno che sia un gesto che sia un dono o che sia una parola rischia di essere ambiguo e quindi rischia di non essere capito quindi qualsiasi segno della conversazione della comunicazione diventa difficilmente decodificabile e a quel punto bisogna diciamo così usare strategie nuove quali quella tipica che è la strategia dell'ira perché normalmente invece la strategia normale che si adopera nelle relazioni soprattutto a così alto livello è quella è la strategia sono le strategie della cortesia ora le strategie della cortesia hanno delle codifiche linguistiche che sono a diverso livello ci sono le parole gli aggettivi superlativi si dice illustri illustrissime oppure si scelgono diversi aggettivi proprio per essere cortesi nei confronti dell'interlocutore poi ci sono strategie morfologiche non so si selezionano dei modi di verbi rispetto ad altri noi non diciamo voglio avere questa informazione ma vorrei avere questa informazione quindi si seleziona il condizionale e chiaramente queste strategie linguistiche mentre le strategie generali sono appunto universali possono essere universali le strategie linguistiche sono codificate lingua per lingua e possono cambiare ambiente per ambiente e questo è molto interessante da studiare in queste lettere perché molto spesso diciamo così Napoli e Milano non codificavano allo stesso modo la cortesia linguistica e questa diversa codifica poteva comportare delle incomprensioni soprattutto nell'uso delle parole nel lessico questo si vede bene ma certe volte queste sfumature si vedono anche in fenomeni diciamo linguistici un po' più sottili quale appunto è la sintassi la morfosintassi l'allocutivo che si usa nei confronti dell'interlocutore certe volte noi siamo portati a pensare che delle oscillazioni e degli allocutivi si usa il tu il voi o anche quello che sta per iniziare ad essere usato cioè lei certe volte pensiamo che queste oscillazioni possono essere dovute a incertezze linguistiche quindi incertezze grammaticali ma certe volte forse sono delle finezze invece della comunicazione proprio per cercare di mandare dei messaggi quindi anche gli argomenti della diciamo delle relazioni che abbiamo sentito adesso riguardano ovviamente quello dei doni diciamo così sono è una strategia di cortesia molto chiara è molto esplicita riguarda dei segni concreti che insomma è difficile equivocare ma lo stesso uso dei proverbi è molto interessante naturalmente voi avete visto una classificazione è una diversificazione proverbi sentenze locuzioni modi di dire non è una cosa facile distinguere ecco c'è tutto un discorso lasciato implicito nella relazione della Melchionno su come si definisce un proverbio come si riconosce un proverbio ma al di là di questo quello che è interessante è proprio l'uso dei proverbi in questo tipo di lettera in questo tipo di di documenti perché i proverbi possono avere davvero funzioni molto differenti a seconda se si trovano nel discorso riportato nel discorso di un re che l'ambasciatore riporta mentre dove possono avere diciamo così una funzione meramente documentaria di un di un discorso ma la cosa interessante è quando il proverbio è del diciamo è del scrivente cioè dell'ambasciatore perché in qualche modo il proverbio tende nella sua icasticità a recuperare tutto ciò che è implicito a esplicitare tutto ciò che è esplicito tutto sommato il proverbio è una forma di interpretazione di quello che è successo se è dell'ambasciatore e nel momento in cui si interpreta si vuole anche dare una non solo una lettura di ciò che è successo ma anche una idea della bontà della propria lettura in qualche modo col proverbio con la citazione del proverbio l'ambasciatore si mette su un piano diverso dal solito e cerca di argomentare la bontà del proprio punto di vista che è una situazione decisamente non normale diciamo così un po' anomala rispetto al solito quindi non solo è interessante fare un repertorio dei proverbi che vengono adoperati in queste fonti perché è una cosa interessante da diversi punti di vista quello etnografico quello sociologico quello dialettologico e anche quello lessicale perché spesso nei proverbi troviamo diciamo così congelate delle espressioni delle parole che se no non avremmo conservate quindi c'è un interesse diciamo storico linguistico generale ma poi credo che una delle cose più interessanti è proprio capire la funzione dei proverbi all'interno del testo quindi bisogna capire bene l'intero testo anzi forse la catena di testi formate da queste lettere che cosa vogliono dire per capire la funzione del proverbio all'interno della narrazione perché un proverbio si certo può descrivere meglio uno stato d'animo ma molto spesso viene adoperato a conclusione di un lungo ragionamento perché il messaggio di un lungo ragionamento che ha lasciato molte cose implicite come è necessario che sia in qualsiasi conversazione ma è importante che il messaggio sia ben chiaro e il proverbio può essere un modo per diciamo così di fare può essere una maniera che l'interlocutore ricordi bene qual era il senso del messaggio e possa trasmetterlo a sua volta ad altri interlocutori come dire una forma di mnemotecnica nella negoziazione diplomatica io grazie di tutto grazie veramente a Francesco Montuori che ha valorizzato una serie di aspetti delle relazioni e ci ha ricordato dei fondamenti vorrei dire della comunicazione nei suoi aspetti antropologici generali insomma antropolinguistici non saprei come dire e negli aspetti invece storici di ciascuna conversazione di ciascun contesto ci sono delle domande prima di passare alle conclusioni specifiche sulle relazioni sì dalla sentenza diciamo citata da che sarà il pulcolo di tutto il discorso di tortuato a procedere sulla distinguzione di un'esta cioè quella è il centro della scala di tortuato sulla distinguzione quindi è interessante che circoli nelle scritture pratiche evidente è interessante che poi nella scuola si è lancio nella scuola diciamo un tifone esclusivo di questi giusti abbia di tracciato le scelze straordinarie evidentemente è una sentenza un po' della scuola non c'è che ciò da tutti ma non è frequentissima non credo che sia non mi pare però è abbastanza complicato e è interessante notare che uno dei termini quella che sarà poi fondamentale la ragione di stato quindi questa sentenza che è una sentenza ovviamente importantissima da questo punto di vista 5 ci sono di alcuni valori particolari per non vado che io avevo solo una domanda per Donnarumma perché tutti e due hanno dovuto affrontare i problemi della classificazione e Melchionno ci ha mostrato attraverso la locuzione né pegno né segno come talvolta appunto sia difficile quella non era appunto un proverbio e volevo chiedere appunto a Donnarumma invece che difficoltà ha avuto se le ha avute nella classificazione degli atti di cortesia perché i doni va bene ma gli atti di cortesia in una comunicazione che come ha ricordato Francesco Monturi è dovrebbe avere diciamo questa base di cortesia forse ci sono state delle scelte che ha fatto che ci può diciamo chiarire noi nell'ambito del laboratorio facciamo un lunghissimo discorso sulla classificazione dei doni e degli atti di cortesia e questo è stato un po' il mio sentivo il peso della classificazione perché per quanto riguarda i doni vi rendete conto tutti che è facilissimo distinguere un cavallo da un dono in Ducati altra cosa ben più difficile è distinguere un ringraziamento da un per esempio da una raccomandazione e quindi io alla fine la classificazione alla fine l'ho trovata nella nella prosopografia che ho realizzato cioè avendo analizzato in un lungo schedario tutte le lettere in cui si parlava appunto di ringraziamenti di raccomandazioni ho visto appunto che si venivano a formare delle categorie di forme della cortesia diciamo gli atti di cortesia e da queste categorie risultavano appunto principalmente le reverenze le raccomandazioni i ringraziamenti e l'ultimo e io ho dovuto includere anche l'invio di medici praticamente perché non avrei potuto dire che un medico è un dono materiale che è difficile riprenderlo e spostarlo insomma e la cosa che mi ha dato veramente da lavorare è stata appunto classificare gli atti di cortesia anche la lettera autografa è un atto di cortesia o in alcuni casi l'invio stesso di una lettera ad una persona che non è prego vieni a una persona che non è il normale interlocutore vieni al microfono però perché ci spostiamo tutti per farlo non ha spazio allora a proposito della liberalitas cioè questo che mi faceva pensare essenzialmente è bellissima la tassonomia e più che altro anche l'aspetto simbolico di queste relazioni io ho pensato all'inizio appena si è parlato di cavalli di estrieri pensavo anche agli aspetti artistici i cavalli per esempio il cavallo di bronzo la testa donata al carafa e quindi anche come queste diciamo questo traffico ecco di antichità di la testa la collezione dei carafa è stata studiata da Bianca De Divizis quindi anche la composizione di determinate diciamo così cortesie che nello stesso tempo rappresentano un motivo di esibizione per colui che manda cioè il mittente è nello stesso tempo un fattore di costruzione anche di rapporti simmetrici e asimmetrici quindi secondo me potrebbe essere anche interessante organizzare la tastonomia nel senso della tipologia dei protagonisti e a questo proposito mi veniva la cosa che mi ha incuriosito è l'assenza invece dei libri all'interno di questo e ho pensato il primo motivo fondamentale potrebbe essere l'idea che le cedole di pagamento devono attestare chiaramente l'allestimento la composizione e la lavorazione magari dei manoscritti però l'idea che appunto oltre agli uomini circolano anche le idee e quindi la presenza stessa di ambasciatori di oratori residenti potrebbe essere un motivo per costruire reti di relazioni e quindi il discorso che si faceva ieri di uno spazio della corte che non è territoriale ma che chiaramente si espande pensavo per esempio ci sono degli studi recentissimi sui volgarizzamenti di decembrio donati a Nicodavalos siamo in un contesto precedente però tutto il passaggio e tutto il rapporto tra manoscritti e circolazione di testi di cui Napoli insomma basti pensare soltanto alla raccolta lagonese per esempio il dono per eccellenza e poi mi veniva appunto da pensare che i termini della liberalitas così come erano cioè Pontano ne scrive nel 65 al Duca di Calabria dice fissa questo assioma cioè liberalitas comitas in questo caso unita all'amicizia cioè fattore di amicizia e quindi motivo di costruzione di relazioni salde quindi potrebbe essere interessante analizzare non soltanto tra soggetti simmetrici quindi di pari grado ci vuole condizione grado quindi tra il Duca e magari però anche all'interno di uno spazio diverso che prenda in considerazione le reti di relazioni che si creano all'interno per esempio del contesto napoletano ora lasciando da parte Carafa che è un personaggio appunto eccezionale pensiamo soltanto per esempio per la presenza di Tomacelli che sta a Firenze per anni e quindi anche non ho capito che è anche un diciamo così un vettore cioè alla fine questi oratori mi sembrano sempre vettori di circolazione quindi sia dal lato degli oratori che stanno a Napoli sia dal lato nella prospettiva degli oratori che vanno fuori e qui volevo vabbè ricollegarmi a quelle considerazioni generali insomma su tutto quello che avevo ascoltato questi due giorni non lo so se posso quindi no allora essenzialmente la cosa che mi ha incuriosito di più era che per ricostruire i profili anche di questi oratori quindi la cosa fondamentale poteva essere anche ricostruire il modo con cui si sovrappone le reti di relazioni che si instaurano all'interno della capitale e quindi all'interno con determinati soggetti io pensavo all'appartenenza di determinati oratori in Macedonia l'Ancelotto Macedonia Antonio De Gienaro per esempio appunto Cicinello del seggio di Montagna cioè sono tutti membri dell'antica nobiltà non sono omines nuovi cioè non sono sempre soggetti quindi è come se la corona sfruttasse in questo caso un patrimonio in questo caso di urbanitas di esperienza quindi nata all'interno dei sedili e una cosa simpatica ci pensavo ieri è un matrimonio appunto quello che dicevo prima un matrimonio attestato all'interno di un seggio di Capuana siamo nell'estate nell'agosto del 1465 in cui compare Ferrante che non avevo mai visto all'interno di un seggio che si presume sia stato anche seduto all'interno mentre si si celebrava festeggiava questo matrimonio tra uno zurlo del seggio di Capuana e non mi ricordo la moglie e in questo caso a fianco a Ferrante c'era sia l'ambasciatore di Milano sia l'ambasciatore di Venezia quindi è tutto il discorso di spazi pubblici privati dell'esibizione anche dell'amicizia e dei legami all'interno di questi spazi e quindi per converso anche da un lato analizzare noi sappiamo per esempio Zaccaria Barbaro va a casa di Carafa però Carafa è Carafa però sarebbe anche interessante esaminare il modo con cui si intersecano queste reti di relazioni cioè tra soggetti che sono esterni allo spazio del regno e soggetti invece che appartengono appunto alla nobiltà di seggio della capitale così come di converso vedere dall'altra parte invece come i gentiluomini di seggio poi dopo diventano vettori anche in questo caso di pratiche politiche di moduli della distinzione cioè è tutto un patrimonio è tutta una circolazione di uomini e di idee e chiaramente i vettori principali sono questi oratori l'idea appunto dello spazio che si interseca è secondo me interessante perché appunto in questo caso la capitale cioè la corte deve fare i conti con una capitale quindi con una densità di un'esperienza di un uso politico dello spazio che non a caso fa sì che Ferrante utilizzi questi soggetti e non altri cioè no nel senso per la maggior parte sì in questo senso sì grazie va bene allora grazie a chi è intervenuto grazie a tutti ma adesso per le sue conclusioni ringraziando alla fin d'ora per la pazienza sono io che ringrazio tutti voi sia gli organizzatori che che mi hanno permesso di partecipare assistere a queste a queste belle relazioni sia ovviamente agli intervenuti che hanno arricchito le mie conoscenze su questo 1474 in particolare ma comunque anche sul contesto della corte aragonese credo proprio che l'ho detto lo ripeto la qualità degli interventi abbia confermato il successo della formula del laboratorio che avete che hanno ideato Francesco senatore Francesco Storti e appunto partendo da un materiale documentario comune quindi lo sforzesco potenza estere 225 ognuno di loro ha dimostrato una matura poi a seconda anche della propria esperienza e della propria età diciamo anche universitaria ma comunque ha già una matura autonomia nell'individuare una propria linea di lettura guardando i medesimi protagonisti i medesimi fatti con occhi diversi quindi mi è sembrato emergere molto bene insomma la trama dissimulatrice della corte aragonese già dalla bella lettura critica del soggiorno prigionia di Federico d'Urbino fatta da Antonella Pisano ma anche nella minuziosa ricostruzione di Rossella del mondo che è alimentata da parole gesti e espressioni come ci ha illustrato Luigi Cirillo il quadro geopolitico sin troppo ampio diciamo che emerge dalla supposta congiura che sta studiando Daft in grieco e il complicato ruolo degli ambasciatori non solo milanesi perché i referimenti anche al Barbaro allargano un po' la questione ma particolarmente milanesi ovviamente data la natura della fonte anche nel penetrare all'interno di questa rete di dissimulatrice ambasciatori che si possono leggere sia come vittime inconsapevoli diciamo così di quelle che sono le strategie comunicative messe in atto da Ferrante attraverso personaggi ambigui come Brocardo e Brocardo da Persico come ci ha illustrato anche Gabriella Tricarico e che per questo perdono attendibilità anche nel loro ruolo la richiesta di un controllo da esercitare ora riottosi esecutori diciamo di una politica di una politica di Galeazzo Maria in cui non si riconoscono o forse meglio non riconoscono quel duttile modello politico diplomatico che aveva portato vantaggi al Ducato di Milano negli anni di Francesco Sforza politica in cui il Maletta Ippolita Cicco a Milano intravedono una potenziale minaccia per il fragile equilibrio raggiunto dagli stati regionali della perisola e qui la lettura di Armida Toraldo è sicuramente una lettura interessante e che merita proprio di bella anche l'apertura multidisciplinare di questo laboratorio che ha arricchito diciamo soprattutto negli ultimi due interventi ha aperto queste aperture sia alla linguistica e quindi allo studio del proverbio come strumento di argomentazione che ha una lunghissima tradizione nella letteratura medievale non come già è stato detto ma comunque non solo ma anche di persuasione attraverso questa appunto ricorso a questa forma bella peraltro la citazione virgiliana sulla dissimulazione che veramente coglie bene anche un'atmosfera e poi anche l'apertura alla lettura antropologica del dono del suo valore simbolico performativo insomma e del dono e dell'atto di cortesia questa distinzione anche interessante che ha introdotto Leo Donnarumma ecco non so io vi ringrazio molto perché ho proprio avuto la percezione di un di un gruppo di lavoro che sta maturando e che dialoga cosa non così scontata nell'università italiana dove regna molto l'individualismo anche per fattori di diverso genere invece l'importanza di trovare questo luogo di confronto di non di scontro ma comunque di dialogo di dialogo e di raffronto con ecco per la mia formazione è stato molto importante ho avuto occasione attorno al mio maestro si era formato una piccola scuola e quindi ho avuto occasione di beneficiarne e sono molto lieta che anche voi possiate grazie ai vostri maestri farne altrettanto uso buon uso vi ringrazio molto grazie grazie molte a Federica Cengarle a nome di tutti per queste belle parole quelle conclusive la percezione di queste di queste pratiche di cortesia tra di noi e di discussione scientifica mi sembra un bel complimento vuoi salutare anche tu comunque ringrazio ovviamente anche tutti i ragazzi i relatori i discussant e naturalmente l'istituto vediamo se anche Francesco ha da dire qualcosa no voglio salutare anche io voglio dire che insomma gli atti saranno probabilmente esplicativi sotto molti punti di vista io coinvolgerò anche Federica nelle conclusioni scritte degli atti spero che insomma non venga meno ma come atto di cortesia finale diciamo a questa pratica sicuramente incorporeremo nel titolo la questione della corte sicuramente mi sembra che questa visione di un apparato diplomatico e politico ulteriore rispetto al ducato che si muove ecco non solo come prospettiva napoletana ma anche come prospettiva milanese dall'angolazione napoletana sia un bel bottino diciamo di questa analisi millimetrica di questa cartella di questa entità cartella che abbiamo individuato faccio i complimenti a me e a Francesco o meglio mi compiaccio del nostro lavoro nel senso che non per auto non per auto celebrarci ma perché sono veramente veramente felice della maturazione diciamo di queste giovani coscienze e di questi giovani studiosi quindi è una questione proprio di compiacimento per l'innesco che siamo riusciti a fare all'interno di queste personalità scientifiche nascenti quindi saluto tutti sono state due giornate molto belle per me grazie a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti